Oggi siamo qua in live su Twitch e si per chi sta guardando questo video su YouTube e so che tu lo stai guardando qua su YouTube quindi sappi che è stato registrato in live su Twitch quindi ti aspetto vieni a spoliciare anche di là ce ne andiamo avanti con Assassin Creed Valhalla e andiamo a farmare un po' di cose per arrivare alla leggendaria dell'armatura di Thor abbiamo già ottenuto la leggenda da Excalibur come vedi arrivano già i primi followers bello Dragon Azteco e GG e ce ne carichiamo un attimino il gioco e ce ne andiamo subito su Valhalla poi se come va Dragon Azteco bene spero di sì pur essendo lunedì dai io non mi posso lamentare pur essendo lunedì non mi posso assolutamente lamentare GG e a po' benissimo se finisce di venirmi sulla mezza cucchina che ho avuto prima poi e anche e anche meglio mi sentite continua che possiamo spostare su Valhalla e GG e andiamo avanti ho già detto GG 20.982 volte periodico però va bene va bene così siamo nella regione che regione saremo? io ci sono ricordi ma sai che siamo siamo il villaggio no non siamo il villaggio mi trovi da queste parti ti ho come ti trovo da queste parti mi hai trovato no io ero in live bella tu sei ciao Thomas Thomas Armelo bella tu sei tu sei e oggi mi ha mandato la foto della postazione sugar bella tosta completa molto basic ma molto completa alla mia stima sugar c'è una gran bella postazione domani è il mio compleanno e si fa il quinto grande beh pensa a fare il compleanno va prima poi facciamo anche poi pensa al resto non preoccuparti gg minchia dimenti grande 16 o di più ho detto una cavolata beh io non ti dico niente non ti faccio gli auguri ti faccio domani giustamente però domani forse è mezzanotte ho visto che sta ah hai visto che sta abbiamo iniziato sta iniziando grande dragosteco minchico super dragosteco allora andiamo un attimo andiamo a banchettare che ci potenziamo un po' guarda che cazzo siamo qua siamo in questa regione qua sperduta da dire ma non so perché siamo qua perché ah perché stavamo stavamo farmando in S va bene andiamo a banchettare qua andiamo a banchettare e poi torniamo nell'essex non c'è tonno tonnobus gg minchia oggi non è di ragazze fate il ponte voi lotto forse viene più tardi bella dragoste io sì grande drago ma la domanda è state andando siete in dado o siete a sua ora perché adesso io ho perso sinceramente ho perso un po' il filo non so te sì no te sì fa il ponte comunque spero vivamente che riuscire a che finisca il prima possibile questa situazione qua che arrivino i vaccini io mi vaccino magari non sarò il primo a fare vaccini in italia però magari aspetto qualcuno che lo fa prima di me però lo faccio il vaccino ne ho fatti poche vita mia ma questo lo faccio per dare anche io il mio contributo a cercare di c'è la civile sto merdone qua che c'è in questo in questo periodo no non ce l'ho un momento beh dai ci abbiamo un momento chi è sta qua tecla un tecla sembri appena uscita da una zuffa va tutto bene vediamo cosa c'è la tecla mi hanno derubata sulla strada poi niente chi erano sei riuscita a vederli bene erano sassoni ne sono sicura era una banda mi hanno preso quattro pochi di birra e tutto il denaro di cosa di questo sì 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 non andiamo a sussurrato all'orecchio ha detto di Agutpa adesso appena riusciamo ad avere l'armatura di Tor iniziamo la storia forte braccio in sassone ne sei certa è ciò che ha detto non è qualcuno di qui vero abbiamo già i scalibur ci sono degli obiettivi abbastanza imbiziosi perché già 80 ore che sono dietro però uno di solito in 80 ore si fa due volte la storia e qualche altra cavolata però diciamo che ne valse la pena grazie Eivor allora scopri il Gutban scopri che è il Gutban i sassoni di Ravenstorp potrebbero saperne di più anche te no figa andiamo via cazzo dove è sto posto i sassoni di Ravenstorp e chi sono i sassoni di Ravenstorp i sassoni i sassoni o i sassoni vediamo la zona ci da la zona di esplorazione no ah siamo già e dove li trovo i sassoni qua devo cercare dei sassoni nel qua ci sono forse questo è un sassone parlami parlami non parla questa illuminata questa illuminata forse è una sassona avveri i poemi che sta succedendo qui Holger sostiene che canzonare sia un'arte da poco ma io mi appongo è un'arte rozza molesta e sgradevole potrei batterti senza un minimo di pratica questo è quello che credi tutta sta dura secondo me non sanno dov'è Gutenberg Gustelberg vuoi farci da giudice? eh non sto nella pelle sarò la vostra giudice fratelli fate del vostro vai inizierò io siamo fratelli nel sangue il buon Holger ed io ma non certo nell'arte né nel suo gracidio pur essendo due amanti della buona poesia lui un verso decente non sa cosa sia non male ma senti qua canzonare è uno scherzo lo dimostrerò lo san fare un po' tutti ed è chi ha ro ma l'arte più eccelsa altrove essa sta nelle saghe nei dipinti e nella beltà sì beltà ecco che ne pensi Eivor albis è il chiaro vincitore Holger non potevo che aspettarmi questo da te Eivor non hai orecchio per queste cose vabbè ce ne avete ancora no no ti ringrazio neanche credo hai ristabilito l'ordinato di bello cyber monday o black friday questo è un sassone salute a te roan ah Eivor qual buon vento amica mia sto bene roan ho solo una te hai preso di bello cyber monday ma ci sono delle belle offerte però quest'anno secondo me è stato causa pandemia causa scorte limitate è stato uno dei più dei più dei più scialbi ci trovano solo le solite cose i mouse i logitech le cuffie le cuffie logitech cioè la roba della logitech c'è tutto ovviamente poi qua le solite robette ma non c'è ti vogliamo aspettare forse è stato un periodo normale secondo me si trovavano anche dei prezzi vabbè non scontati però dei prezzi onesti sulle schede video però non queste qui dei prezzi onesti sulle schede video è follie in questo periodo è follie a pensarlo secondo me poi i pezzi rimangono questi gli ogitech ah buone buone gli ogitech è un bella marchettina una domanda il nome Gutban ti dice qualcosa va bene basta è un nome credo ma non mi ricorda nessuno ottimo acquisto drago un nome fasullo e perché lo chiedi a me perché mi fai domande su un nome falso credi che il mio nome lo sia e anzi questo sassone mi sa qualcosa io sono ottaviano e sono sempre stato ottaviano ti prego questo non è un buon momento sono molto occupato addio addio quindi questo non sa neanche lui di sto tizio qua di Gutban e noi andiamo dall'ultimo sassone andiamo dall'ultimo sassone del di Ravenstorp se hai un momento per me aspetta adesso li facciamo sentireli ascoltiamo tutti i sassone no non è qua ti vedo ottimamente oggi si guarda dio lunedì ciao ciao ci vediamo mercoledì anzi ci vediamo prossimamente anche lui è un sassone io sono Gutban Eivor ah è lui Gutban significa forte braccio non il nome di un fornaio indifeso no non è il nome di un fornaio no come hai avuto questo nome prima di giungere qui vivevo un'altra vita violenta e brutale ero parte di una banda di mercenari quindi è sotto copertura ero la loro arma giravo l'Inghilterra insieme a loro poi facevo tutto ciò che chiedevano e mi chiedevano solo atti di violenza quando me ne andai posai questa spada nell'erba e feci un voto giurai di non versare più una sola goccia di sangue di abbandonare ogni violenza di non uccidere mai più un'ardua promessa per un uomo duro forse ma non per me non volevo altro che questa vita non sono mai stato così in pace è tutta colpa mia sono io la causa di questi guai tocca a me rimediare Tarben chi ti minaccia sta minacciando il mio clan non lo permetterò sono uomini malvagi Eivor non voglio che tu combatta le mie battaglie non mi hai sentita Tarben se minacciano te minacciano me andremo ad affrontarli insieme molto bene il fornaio vediamoci quando sarai pronta credo di sapere dove si trovano il fornaio ci ha fatto bene andiamo subito andiamo subito siamo qua le scappi e vieni qua se vuoi affrontare i tuoi vecchi amici partiamo quando vuoi bene ti farò strada speriamo che non sia buggata come l'altra volta la missione voglio dirti che se dovesse finire male con la mia vecchia panda non finirà male con la tua vecchia panda se dovesse finire male con la mia vecchia panda posso cavarmela da solo tutto ciò che ti chiedo è di perdonarmi non c'è niente da perdonare li hai lasciati ti hanno seguito con l'ascia o a mani nude ti proteggerò a dovere stai vivendo la vita che desideri vero? bevi la pozione per tornare da... no prima che ci scoprano dimmi cosa dovrei aspettarmi ci attaccheranno a prima vista? non credo che andrà così no niente del genere non sarebbe da Wilf sì lui è furbo è piuttosto amabile quando lo incontri ti fa sempre questo amico uno di famiglia lo incontrai circa dieci anni fa e fu la prima persona ad accogliermi a riconoscere che voglio qualcosa mi disse che avevo un dono per l'intimidazione non ho capito ancora se si chiama Gutban cioè si chiama Gutban o Tarben vista la mia stazza e forza sapeva come usarmi ok dai andiamo andiamo se accelerava il passo era un po' meglio va beh molto full immersion come luccica nella notte X-Galibur si chiama dove cavolo c'è l'aria dove c'è l'aria questo è uno stile i suoi ex amici ma era un affetto calcolato Will fa ma solo ciò che possiede quindi che cosa intendi fare non tornerò con loro e non voglio altro sangue sulla coscienza per il resto non saprei dire chissà cosa avranno in mente vedo molto lungo il suo viaggio qua in cavallo l'ultima volta si è fatto attraversare tutte le lande con la barca molto lunga che bei bambi ciao oddio e anche il guado beh capre siamo arrivati credo ci fermiamo quella casa credo che siano lì all'inizio non ti colpirà molto Eivor ma sta attenta non prendere Wilfa i suoi modi affascinanti alla leggera è una vera serpe ho già incontrato molte vipere travestite da magliatori lo so lo so era un avvertimento ora entriamo entriamo e vediamo chi c'è mi sembra di qua gutman ragazzo per tutti i fulmini hai avuto un messaggio e hai portato un'amica e tu chi saresti danese una sua preda sono Eivor e tu hai derubato una donna del mio clan è inaccettabile lo so lo so ne sono desolato ma dia Tecla vero? dia Tecla che la sua birra è tra le più buone che abbia bevuto io ho chiuso con te Wilf ma noi non abbiamo chiuso con te ti abbiamo dato un rifugio provviste birra e ricchezze ti abbiamo reso ciò che sei per quanto avete fatto lui vi ha ricambiati con il sudore non è così sei molto focusa mi piace ma questo accordo era già concluso prima che la vostra gente approdasse qui ma se vuoi salvare l'onore di Tarben sarò felice di aiutarti c'è solo un piccolo prezzo da pagare alcuni giorni fa i soldati hanno confiscato le mie merci diciamo così hanno tentato di confiscare anche me ma sono fuggito se ci tieni tanto potresti recuperare i miei averi e riportarmeli fallo e il tuo onore è salvo ma non posso mi ero ripromesso di farla finita con questa vita ma se servirà a riabilitare Tarben ti riporteremo ogni cosa dove sono questi soldati? accampati a ovest non lontano un battaglione di soldati boriosi ed esaltati li riconoscerai dall'odore aspettaci qui torneremo prima che ti spunti un altro paio di corna dio sia con te Eivor minchia ancora in viaggio non potevamo farlo semplicemente a festine riportiamo tutto a Wilf io non me la sarei cavata così bene secondo me ce l'ho già eh quell'oggetto lì sono questi i lavori di cui ti occupo sono ritornati come me li ho presi in una mia esplorazione splendido splendido posatele qui io li ho presi durante una pazienza in esplorazione che culo meno male onorerò il patto per dio la gente non ha più fiducia oggi beh sono tempi molto bui molto bene ora siamo a posto si sei libero di andartene da qui e di essere Tarben in il triste fornaio per il resto dei tuoi giorni che pezzo di pezzo di scaramento se la vita sedentaria dovesse stancarti una ladra come te ci sarebbe molto utile pensaci bene ostimo fatto bene porto il tar no te spero che salga sul mio cavallo mi segue o si mi seguo mi seguo tarben sei soddisfatto si non ti ringrazierò mai abbastanza temevo il peggio quando ho sentito il mio vecchio non accadeva da anni ho noto anche il suo cavallo immagino come sei finito in quella andiamo per le vidri di 30 così possiamo prima vieni qua va non fermarti per l'amor di dio quando mia madre morì cercai una famiglia Wilf me la diede prese cura di me mi accolse e mi disse chi ero chi potevo essere ma ora quel tempo è passato per me oh non si era fa più il cavallo vi accettate per quello che sono e mi avete fatto il dono più grande la pace molti uomini sono pacifici perché non conoscono la tempesta ma tu l'hai superata e sei sopravvissuto è una cosa rara significa molto grazie vai Shane so che ce la puoi fare oh bravo ancora qua ok secondo me non è ancora qua dai scendi non stare ma por dai seguimi seguimi dai so che c'è niente seguimi dai no no mi cosa ti devo fare non proviamo a meditare sei ancora lì però sei un peer come non detto come fa se ritirarlo giù da lì se non si muove c'è l'unico modo forse fare questo qua si ha paura dell'altezza sto cazzo eh ho capito io non vorrei ammazzarlo però cazzo perché non ho c'è la maestra è maestra è maestra vai giù cazzo no niente senti andiamo qui andiamo a vedere sul punto storico andiamo a vedere se mi appare sull'arrivo perché sennò qua è impazzesco ma cosa vuoi che ti dica io ah beh si sta lì giorno e notte non so cosa dirti cosa vuoi che entro ma vedi arriva 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 col cavallo bianco oh portiamola alla panetteria perché perché sennò se non vai alla panetteria è qua caso diplomatico ora abbiamo messo qualcosa grazie portiamola alla panetteria dai dai forse la volta buona si si ci sei si oh ah hai ragione bravo bravo certo il registro zettaro cancella il passato con piacere il passato non si può cancellare si può scrivere solo il futuro la massima di pompelmo segniamo questi due punti talento ci mettiamo prendiamo questa ce l'abbiamo danni corpo a corpo a distanza no facciamo si mettiamo facciamo qualcosa di questo ce l'abbiamo tutto questo questo si danni corpo a corpo più 4 vediamo alco predatore non mi interessa probabilità colpo critico non mi interessa colpo non mi interessa scudo leggero non mi interessa scudo no l'ordimento finale l'ordimento finale è quello che prende però aumenta la maestra con le asce danni abilità se prendiamoci questo assolutamente una nuova casa vincolo bevi la pozione no trova le pagine del codice no trova cd membro dell'order no tecla tecla è sparita vabbè noi torniamo ci va nell'essex andiamo avanti qua andiamo avanti qua nel nostro essex andiamo a prendersi due robette qua poi vediamo poi vediamo andiamo avanti con i misteri scavaica misteri bottini bottini misteri misteri bottini e gg allora ci dovrebbe essere qualcosina da prendere questo c'è dove vai fuori finchia è facile cazzo finchia però c'è che poi ti prendo non ce la faccio a prenderlo preso 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 abbiamo preso ok ce n'è un altro però come scendo da qua cos'è oh ah ho pensato qui dai solo che non ho vado di stare qua vicino al cappuccino dovremmo avere qua ha delle strane braccia alzate poi si sta pregando qualche divinità comunque devo capire come è sta cosa qua mi bevo il caffè niente mi bevo la coca mi sveglio o è la mixture dei due coca più caffè che è tipo dopping ma se no qua il quadro non cosa abbiamo un antico monumento romano spiega le ali sinin però c'è poco a fine eh probabilmente perché di solito il caffè lo fa mia mamma sai lei lo fa molto 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 leggero non sembrerebbe no è qua è qua è qua si nella coca eccola nella coca normale c'è un voto di caffè tutto quello che non ci deve essere nella coca c'è allora questi fanno parte della missione non riusciamo a prendere però questo ci andiamo a prendere questo questo prendiamo a fare questo misterino qua poi vediamo un po' però vabbè facciamo anche un altro uè ciao friz come va sei tornato a scuola o stai facendo ancora la la dad la dritta è over 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 la dritta Ma Pippo può capire No mi chiamo Pompelmo Non sono Non mi chiamo Pippo Allora vediamo un po' Devo essere dentro sta chiesa qua Le ricchezze però Se volete vi porto in una messa Mediovele in latino Acfebidus Pompelmidus Antispiritus Antacteticorum State venis boes patris nominus pidius Antis petitum frexibus Sta facendo la dadis didacticum a distanza Vai Sanctin Santinorum Ti ho una chiavettina Maledizione Io faccio sia dadi che imprendente Eh portate pazienza dai su Se la porta è chiusa Perché la porta è chiusa Poi puoi fare così Sto dopo qua No cazzo Ho sbagliato finestra Maledizione Che epic fail Ah ci sarà una finestra dove entrare Sì i miei occhi Ah e qua è tutto chiuso Sì Ho sbagliato finestra Cazzo Lì è troppo piccolo da passare Qua non si passa Qua non ci sono aperture Che cazzo passa Epico Non lo so Cazzo Ho sbagliato finestra Figa ho rotto una finestra della chiesa per niente Allora c'è un passaggio lì Allora Ragionamento Se le finestre non si possono rompere La chiave è dentro Ci sarà un passaggio Vediamo se c'è un cunicolo qua per qua Parrucche Accetto solo parrucche Però c'è anche una chiave dentro Proviamo ad andare a prendere quella di chiave Rischiamo Proviamo ad andare a prendere quella chiave E poi vediamo Se non è quella chiave andiamo via Che probabilmente si fa durante il corso di una mission Chi è che c'è la chiave Sono grossi sti qua Se non ci facciamo vedere Figa non mi hanno visto Cazzo non mi hanno visto Studi di Sant'Ele Vediamo se la chiave è giusta Non per Cioè Chi è Porco zia Un altro epico feo Eh no allora Niente Loro non ce l'ha Attualmente Proviamo L'ultima te Niente non ce l'ha Sotto la light Si è scritto a donation Vedi Niente non ci entriamo qua Non mi piace sto posto qua Fluge 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 Niente non ci entriamo qua No no Non sono io Peccato Volevo entrare qua dentro Ma ci sposteremo Andiamo direttamente su questi Qua ci spostiamo Ciao Faris Mi dico Super Buonasera Buonasera Come dicono D'oltre al per i francesi Buonasera Buonasera E' buon vuoi No buonasera E' francese non lo so Merci beaucoup Tres joli Tres bien Volevo per te Volevo pomper me Basta Volevo si Però pomper me Non penso che esista E allora Com'è sto Tra l'entrame Va Va bene Quando arrivi il monitor Nuovo ti saprò dire Su sto qua Su la sansincredo Non ha molto senso Ti ha dato una bomba Che non serve Quindi Ah si va bene Va bene Va bene No mi sorprende Il treno che trovi In offerta su Amazon Adesso devo ancora vedere Pensavo all'LG 27 GN 950 Vediamo cosa Bella missione sta qua Cosa hanno sti qua? Per trovare la forza Di affrontare Chi sta nella caverna Un demonio In forma umana Che comanda Le altre belve Molte volte Lo abbiamo visto Nutrire bestie selvagge E parlare con loro E poi vediamo Se ovviamente Un po' la caldina Non spinge neanche Questa scheda qua Cioè Voi cristiani Spesso definite E demonio Ciò che non sapete Comprendere Gli uccelli In questi boss Sono inquieti E aggressivi E ieri Mi sono accorto Che l'altra scheda video Che avevo sull'altro computer Ormai era cotta Figa L'ho cambiata Figa Se non uscirà lui Allora entreremo noi Va molto Molto meglio L'altro che si Molto Vediamo chi c'è in questa caverna Fa attenzione straniera Non devi parlargli Non parliamo con questo santone qua È il rifugio di un uomo O di una bestia Chi c'è qui Un uomo Che uomo Sei in compagnia di un orso Beh sto qua lo salviamo Sei come dice il monaco Gli animali sono miei amici Li capisco E loro capiscono me Lui è stato ferito Ora vogliono ferire me Ma tu hai Izzato le belve contro qualcuno Contro chi ferisce i miei amici Ma non contro i bambini Non meriti di morire Non hai fatto che difendere coloro che ami Mi sembra molto più lucido Che quei frati cappuccini Non ucciderli Non voglio Spaventali Hanno il terrore degli animali Ricordi? Grazie Come faccio a spaventarli Interessante Prendiamoci questi funghetti qua Questo qua può essere Vieni? Vieni? No Sistemiamo questi frati cappuccini qua In un modo o nell'altro Poi io ce l'avrei un animale E' questo Infatti non viene L'hai abbattuto? Sì sì La sua lingua diabolica ti ha traviata Perché non mi fa parlare? Non va mica a uccideresti qua Vediamoci Vediamoci C'è un cane Un lupo Da scontro Profeta Mosi Imprenata Malancada Ho bisogno di Vediamoci C'è qualche animale Da chiamare qua vicino Forse qua Quelli Dupi Vediamoci Forse Vediamoci Gli riporto Sennò li ammazzano Seguimi 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 Dove vai? Oh Cazzo Non l'avevo visto Questo E neanche tetra Calmi però Cazzo Non me Voi Income niente Aiuto Un'altra signora degli animali La stirpa del demonio è qui Aiuto Scappate Sennò quelli stolti superstiziosi a tenere Yeah Non c'era degli orsi Sì però non me Cazzo I frati Bravo gli punti di esperienza adesso Cazzo Deve andato a finire il frate Beh a funzionare ha funzionato Il frate è lì che scappa Non so se sei ciò che dicono Ma ho pensato io Agli uomini che ti minacciavano Come dicevi Hanno il terrore degli animali E ora pensano che la foresta Abbia due demoni Così staranno lontani Sei un'amica E piaci a Ewin Viene Addio Yuppi Mi piacciamo all'orso All'orso Vabbè Tane del demonio Completata E non No cavolo Per un non nulla Non prendiamo anche l'idea Yuh Grande Pesta ha funzionato Gli abbiamo portato lì i lupi Sono scappati Lì i frati Frati cappuccini Cappucciani Che cazzo Che è Tendiamo qua dai Andiamo a vedere cosa c'è qua Tanto ci prendiamo Ste due tre ricchezze E via E via E via Qual'altra missione c'è Poi arriva anche il cavallo Mi fa un piacere Cioè così eh Con calma Vi piace Il mio La mia Aquila da Ricognizione Cosa ne pensate Cazzo Cazzo Però io c'è anche Potrei farla anche attaccare Quella Facciamo così Tac Ci mettiamo Questo La colomba Sì la colomba Il colomba L'ho tirato via là Quella bianca Che la colomba No che il colomba Il piccione Non è la colomba La colomba è Pasqua Quella lì quando arriva a Pasqua C'è la colomba Quella è il piccione E' meglio che il corvo Il corvo è da Filmoro Infatti Guarda E lì c'è il nemico Guarda Guarda che attacca Vai piccione Passato di mano Sì la Vai Dammi una mano Mi è seccato Sempre la potenza Di Ezgalibur Sì qua ce n'è di roba Sì qua possiamo Depredare Quello che vogliamo Infatti Siamo le chiave Chiado è la chiave qua Sai che forse Dai la chiave Dobbiamo andare a prendere la chiave Rubare la chiave Quello lì Ehi Scalibur Scalibur Grande Super Come spada Ehi la spada Più potente del Quella 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 segreta Non sai Che minate Che ho fatto Per 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 Prenderla Non ti dico Cosa ho dovuto Fare Perché Abbiamo dovuto Prendere 11 tavolette Segrete Sconfiggere Sconfiggere Tre 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 Potentissimi E poi Siamo Dovuti Andare Andare a Prendere Scalibur Qua Tira Fuori Dalla Rozza Epico Fa Ne Vassa La Pena E' Un po' Lenta Sì Ti ha Bestie Miettante Perché I cacciatori D'Italia Erano Veramente Forti Dove Vai Vieni qua E' un po' Lenta Perché E' uno Spadone Due Mani Però Fì Quando Ti Prende Infatti Con I nemici Veloci Non è Molto Non è Il Massimo Quando Hai Un nemico Veloce Davanti Grande Gist Però Solo Che Quando Ti Prende Ti Prende Cioè Ti Asfalta Allora Una ricchezza E l'abbiamo Sì sì Vai vai Un attimo Se andiamo a prendere L'abilità Che Sono tutti qua Qua dove Entriamo Qua Andiamo a prendere Un'altra chiave Oh Le nascondono Proprio bene A ste Robbe Qua Beh Interessante Cazzo Vediamo Se riusciamo a passare Dal tetto Cazzo E' aperto Qua No Non è aperto Cazzo Adesso È aperto Sono tutti Quasti Qua Fai un'asta Anche per me No Meglio di no Fare Un pericoloso Ma come te l'ho detto Era 30-70 Abbiamo trovato Abbiamo potenziato Il piccione Dammi una mano Piccione Vai Attacca Grande Dai Picchia Po Sì ma il maiale Che cazzo È il cinghiale E poi Wow Mi stra... Attenzione Mi strappi i capelli di testa Ipi Super Donation Le 30-70 Se cerchi Le 30-70 Le trovi A prezzi Onesti No Non me Non me Non me C'è delle buone cari La 30-70 La trovi Tu Non mi scappi Ti rai lentamente No Ok No 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 Meno 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 Ovvio Non è una fan È bloccata Anche questa Maledizione Questa qua Da dove passa? Passa dal tetto Minchia Sto andando a fuoco No Perché Non ci passa Ma Cazzo Avete rotto Si rompe lì? Non passo Eh Eh Sì Devo Allargare E come? Ah Quello No Devo allargare Il buco Ok Non mi prende Il comando Però mi stanno sparando 18 frecce Forse Cazzo Vai piccione Sono Non mi rende più utile Proviamo così Non ce la facciamo Se non si larga così Sto buco Qua In teore Ci dovrebbe Vuoi vedere Vuoi vedere che Qua Qua Oh è rotto Cazzo Aspetta 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 E va E va Fan bagno Te la carogna Sei te la carogna Sì Mi hanno perso Eh beh C'è altro Qua Ok Vediamo se c'è altro Sennò io vengo via Via Andiamo Direttamente Sull'evento Stora Perché Sennò Qua È la tua fine Sì sì Basta però C'abbiamo anche Due talenti Da segnare Gigi Vediamo 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 Qua cosa ci dice Chi è la più bella Di tutte Sei tu Sì Sei tu Tu che fiuti Tra le foglie E rendi ricco La cosa ci dice Maiale Maiale Quale ignoranza Grufolina È un cinghiale E di una bellezza Unica Finga Bene Mi lascio soli Te ne prego Ma non per le ragioni Che stai insinuando Tu Con fondi Il suo naso delicato Con il tuo Rozzo Fetture Beh C'è chi lo apprezza Dunque Sa fiutare i funghi Ho sentito parlare Di tali bestie Funghi? Maestro di cinghiale Lei sa fiutare tesori Tesori? La foresta di Epping È piena E Grufolina Li trova Ha fiutato qualcosa Seguimi e vedrai Seguiamo Cinghiale Oh sì Brava bambina mia Trovaci un tesoro E per cena Avrai dolci bacche Prelimate Vediamo cosa trovate Il cinghiale Secondo me Ho trovato Boh Non so Perché dovevano Seguire un cinghiale E se gli ammazziamo Il cinghiale Ci facciamo Una spezia Polente Il cinghiale Ah Non è una bella Allora Quindi Vabbè Arriva 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 Andiamo un po' Andiamo un po' Tartufo Tartufo bianco Altre calze Rancide I banditi Le abbandonano Ovunque Grufolina Fiutalezzo Che emanano Che Delusione Credo che riposerò Se Grufolina Si allontana Potresti seguirla Se troverà qualcosa Divideremo Le calze Sono tue Io devo stare Ancora qualche Il cinghiale Ottimo Su Grufolina Trovami qualcosa Di molto prezioso Vediamo cosa si trova Si prima ha trovato Delle calze Com'è adesso Trova un tesoro Ma? Si Un bel bottino Brava Grufolina Sei la regina Dei cinghiali Va Grufolina Corri come se Avessi Penrì Ralle calcagna A me sembra Che è sopravvissuta Una battuta Di caccia Cioè Caccia al cinghiale Sopravvissuta Una battuta Di caccia al cinghiale Sta roba qua Sopravvissuta Saresti una degna Rivale di Gullimburst C'era sacra L'amato cinghiale Dorato di Freya Anche tu Fosti creata Dai nani Cosa non farei Per una bestia Tanto abile guardami mi puzza mi puzza non torcerete una serie di questo bel cinghiale ti proteggo io così da brava i banditi cattivi non ti disturberanno vedrai quindi sono morti e poi è zittata non si può accarezzare no esame vediamo un po vediamo un po cosa tira fuori meno male meno ma l'us posate ci assegniamo sti talenti adestramento resistenza il fuoco no danni d'assassino no salute si dai mettiamo questo questo cos'è mira d'emergenza oh figa mira d'emergenza la dobbiamo prendere vediamo un po cosa c'abbiamo qua vicino da siamo qua si possiamo andare nel cent nel cent andiamo a diretti qua andiamo a diretti sull'altro mistero possibilmente cercando possibilmente guardando il più veloce possibile sostenere qua i primi giorni costemi questi misteri qua è stato agghiacciato da solo omicidi barra sui siti nelle missioni nei misteri andate bene bestie tornate da poco signore ditegli che non mi farò qua c'ha paura dei cinghiali non dei cinghiali ah di cinghiale cazzo minchia va a far male figa muore cinghiale dammi il tuo spezzatino va no qui qualcuno chi è che si è staccato da qua morto dal terrore o per altri motivi morto è rivenuto in infarto è la madonna ma non si può negare che gli animali lo perseguitassero se l'amico degli animali dell'essex ha avuto un ruolo qui ha davvero grande potere e che fetore avanzi di cibo marcio nel suo terrore si è barricato in casa senza badare all'arrivo dei rati la sua stessa profezia ha permesso alla natura di vendicarsi nooo ma è cringissima sta roba ma sto qui è quello che abbiamo salvato prima dai dei monaci che era amico degli animali finché si è fatto è morto di paura dagli animali ero terrorizzato si credeva maledetto per aver ucciso una lupa e il suo cucciolo ve l'ho detto io che è cringissima sta storia i misteri qua dentro sono cringissimi sono veramente non cringe di più andiamo a vediamo cosa c'è qua anzi campo di banditi anzi andiamo dai banditi va vediamo dai banditi poi c'è andiamo qua si però no ho fatto tanto prima per salvarlo sto qua c'è se lo sapevo l'ammazzavo subito sto signore quello lì l'amico degli animali tarzan minchia ma vediamo cosa c'è qua l'attacca erano a vista qui l'abilità è pregiata da venire al giorno così ci vediamo meglio si vedo meglio anche loro ma almeno uno e subito il cazzo non sono mmm dove è sta cazzo c'è un un manufatto qua sopra e cominci salgo sopra qua c'è uno pale chi è che mi aveva detto che gli animali e i cinghiani sono i più odiosi in questo gioco? Faris aveva ragione anzi ha ragione allora vediamo un altro po' qua non c'è niente qua abbiamo un tesoro lì l'abilità dobbiamo andare nella cattedrale o cazzo 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 Che altro è legnale Vieni, bravo Si è bello qua Tocca, maledetta La vecchiazza ottenuta E lì? Dobbiamo salire qua in cima Pali No, aspetta di qua Eh, sì Non devi girare in tondo, eh Però L'abbiamo fatta Cogli il libro del sapere Uh, balzo delle valchiere potenziato Attenzione Andiamo a Vediamo come funziona questo balzo qua delle valchiere E che fai il doppio del danno Oh, minchia Maledetta cinghiale Maledetta cinghiale No, qua Eh, porco zio, dai su Basta Vediamo Vediamo, vediamo se così può funzionare Sì, può funzionare, certo che può funzionare Eh, no Sì Sì, sali Rona dell'ombra Rona per armatura Oh Questo è pregiata La runa che abbiamo preso è pregiata Aspetta Sì Sapete che non ti dovevo liberare Sì Sono curioso Eh, l'armatura di Thor L'armatura di Thor Ci vale ancora un po' Proviamo Non è veloce da prendere Stasera Verso fine serata Possiamo fare un tentativo Andare a prendere Perché devo battere Devo arrivare a A un livello alto Per cercare di battere Per cercare di battere una Come cazzo si chiama Devo prendere l'ultimo pezzo Se non Devo battere sto tizio qua Eh Vedete Infatti c'è lo stemmino di Thor Solo che sto qua è a livello C'è un livello alto Vediamo Vediamo che il livello arriviamo Stasera Spero di Crescere velocemente Nella emergenza Attacco sto ordine Se prendiamo questo Resistenza a distanza Sì No Facciamo delle cose un pochino più Combo L'arco da cazzo No No Questo Scordimento Velocità Perfetto Sì Boh Vediamo se riusciamo a Che livello siamo A 200 Non so se stasera Beh Noi ci proviamo Cioè l'obiettivo Dovremmo fare un po' di missione Se arriviamo a livello 250 Ci andiamo a provare a Uccidere A fare quella A battere quel Mostro lì Potremmo Non so se ci arriviamo eh Anche perché sono proprio leggendari leggendari del gioco 2.17 qua Io Io per vedercela dentro lì Con la figlia di Con quello lì Figlia di Lera Non si chiama quel mostro lì Arrivare su 250 Forse ce la facciamo Ignorami E finirai per pentirtene Cazzo è la mia scena Ignorami e finirai per pentirtene Cazzo vorrei Sono qui Vecchio Racconta la storia Si che è cieco Cazzo I giovani Vennero da me Qualche tempo fa Erano degli sbruffoni 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 Dediti al bere E al vizio La morte Aveva reclamato Un loro amico E così Si erano messi in viaggio Con l'intento Di trovarla E darle Una lezione Che stolti Noi norreni Non inseguiamo la morte La accogliamo Già Vennero da me E con arroganza Mi chiesero Dicci dove trovare la morte Sei un vecchio Dunque Devi conoscerla E qui vicino Risposi E sotto la grande quercia Nella foresta Qui dietro E fu proprio lì Che i tre Si diressero I tre si diressero Una storia strana Vivi da come un terribile sogno Si Si Era completa Anche No Non era completata Beh Interessante come cosa è questa la quercia di cui parlava il vecchio questa lusso lusso attenzione lusso uno strangolato io quella birra lì non la toccherei ecco è stato un veleno nessun segno di lotta deve averlo preso senza saperlo questi fanno molto watchdog sti sti fantasmi qua andando al vecchio vediamo se dici qualcosa e perché ci sia ancora il vecchio il vecchio se ne è andato sicuramente quelli erano i vecchi della storia no no è qua è qua è qua è qua è qua frammento chiotve presso il grande albero nord delle rovine nel cuore della foresta est croyden chiotve qua dove c'era il vecchio il vecchio non c'è più c'è a chiotve chiotve si è bagato il gioco porco zio buon edizione cazzo no e puoi stare così fino a domani tanto quanto quanto odio quando mi fa così figa e maledetto vecchio di io vorrei capire ta 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 la ogite che il gatto abbiamo amo la creta si 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 è frizzato rispetto un attimo si 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 è frizzato spero che non 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 mi mi ho no mi 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 perché adesso avevo messa che c'era sotto cazzo task manager secondo me perché c'avevo sotto aperto qualcosa facciamo restare la maledizione c'avevo sotto aperto il programma di overclock della gpu però quando c'ho aperto i programmi lì mi si frizza dopo una mezz'ora che gioco mi si frizza sempre il gioco dopo un po' maledizione cazzo 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 non è possibile non è possibile problema che non deve esistere quando tengo aperto sotto i programmi di overclock della gpu dopo un'ora si esce mi sputto fuori dal gioco sempre non so i programmi di overclock della gpu non è che infatti adesso è arrivato il pc l'ho spento ce l'ho disattivato quel programma lì la speranza che sia vipc si 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 sta avviando quale monitor cosa si sta avviando poi si si no no si no poi si risolverà no se non se non lo cazzo ci siamo ce la facciamo si ce la facciamo se non lo risolvo cioè lo devo risolvere basta che disabilito quel programma lì e l'avvio basta startup manager vediamo un po' amplification armory creator mini mini e vediamo se lo fa ancora non dovrebbe ma 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 essere grazie per il raid bro rilanciamo ad zingrid bello tono figa figa sei un boss del quartiere del raid è un boss del quartiere grazie raven quel che passa da raven e gg guardate un attimo 0 si è arrivato ripartiamo e diamo da dove è da dove ci ha lasciato vediamo se mi riprende il salvataggio il salvataggio è sicuro c'è da vedere da quando mi ha mi ha senuto buono il salvataggio quando mi ha salvato l'ultima volta beh buono una storia strana vivida come un terribile sogno è questa la quercia di cui parlava il vecchio no no ma il vi di te lo america chi ha detto che non te lo america il viip ecco ciò che intendeva il vecchio ma che è successo dal colorito lo spadone lo spadone ecco quello lì ci vuole ancora un po' di tempo ma cosa voleva raggiungere mi chiedo no no vip vip se uno dei vip vip più del canale ci fosse il vip più te lo metterei però non c'è nessun segno di lotta deve averlo preso senza saperlo come io cibo e birra ma perchè a capire io mi metterò il lucido sulla pelata però non sai non vado a prendere il lucido per teste pelate in nel negozio di cosmetici ma non da banditi al tigota bene allora vediamo un attimo allora qua prima sei baganzo sei frizzato tutto ma spento ho dovuto riviare il pc vediamo se aspetta salviamo ah qui c'era il vecchietto prima e il vecchietto però non c'è più neanche adesso ma è il gioco o la 3000? come? no no è il gioco ah perchè avevo aperto sotto dei programmi di overclock chiotve allora il vecchio se ne va? ah quando ho aperto quei programmi di overclock mi manda mi frezza sempre dopo poi non frezza poi frezza una volta e poi mi sputo fuori dal gioco e basta ssssssss ssssss allora su qua se ne va a chiotve l'albero nord nel cuore della foresta ered chiazzò chiotve è in ciotve è in danimarca cioè chiotve è in danimarca cioè sto vecchio qua non può essere scappato in danimarca ma però manca questo argento senza dubbio ha giocato un ruolo nella tragedia i tre uomini ah vedi che mancava l'argento si sono accampati mentre pensavano a come spartire è arrivato il vecchio e zaaah due di loro hanno aggredito il terzo ma il terzo li aveva anticipati e aveva già avvelenato la birra la brama d'argento ha indotto questi tre a uccidersi in fondo è vero hanno trovato la morte o la morte li ha trovati mh niente si sono ammazzati per un pò per un pentolone d'argento va bene però il vecchio è andato a chiotve però semmai ha avviso che ha dato i punti della missione il vecchio può andare a chiotve proprio vai 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 lì a chiotve si statene a chiotve e stacci bravo bravissimo vediamo non vediamo sta roba qua oh tonno che si dice sai che il tuo gioco quello lì delle delle ock era in offerta su sti non chiedermi il nome però l'ho salvato però non l'ho preso non è offerta però 12 euro per un indie delle ock in offerta mi sembravano un pò troppi buonanotte no cazzo buonanotte buonanotte eh sì quello lì è non mi ricordo però come si chiama il titolo ma perché è il posto in che prendere la roba si è messo a camminare nel vuoto buonanotte 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 le pietre non fatelo voi da casa lanciare ripietra esめ tranziamola qua lanciano wow ancora lancia c'era velatono c'era il tuo gioco degli ock in offerta sul steam a 12 qua vicino vicino non c'è un chezza, c'è qualcosa in quel villaggio questo villaggio qua va io sì sì un po di anni fa non ho letto niente mi dissocio casa mi dissocio mi dissocio ho capito perché sei l'amico di ton mentre sotto secondo me si può entrare in questa torre ma c'è la capirgola ma mi sento predo in che dai com'è è dentro la chiesa però sto qua un paio d'anni no più danni quando ero piccolino io ho 20 io sono ben vecchio negli anni negli anni 90 negli anni 90 figa c'era la gente che andava pazzo per fare quella roba lì da pazzi adesso tesoro qua guarda piccolo così sì no negli anni 20 era un secolo non sono dracula no negli anni 90 eh perché adesso col secolo nuovo negli anni 90 cazzo è chiuso io dove ritrovo la chiave adesso due chiavi cazzo ma porcaz e questo è impegnativa da prendere c'era un fra figa sotto terra sotto terra queste chiavi qua allora guarda sicuramente qua dentro c'era la chiave giusta qua è la chiave no un po' di chiave anche se la chiave è giusta oh oh dovrebbe essere la chiave giusta la finestra ormai l'abbiamo rotta passando alla finestra cazzo ma sono due chiavi minchia oh cosa c'è dentro c'è paura cazzo forse è con due chiavi penso che è la prima volta che mi capita guarda qui è sbarrato non si può entrare dalla finestra che cazzo passo cioè ci deve essere dentro qualcosa di gigante per esserci due chiavi poi niente giù questo non si apre la chiave adesso lo apriamo se non lo apriamo è pazzesco ricetta segreta della birra non la fa in bagno se ho misero forziere con dentro il nulla mi sento triggerato molto triggerato vediamo due inseratore si beh ho un lingottino di nickel che dobbiamo niente di che si è un normalissimo forseere comunque qualcosa di poco più grande hai preso anche un monitor? guidami no chi te l'ha detto? vedete che si tutto questo è per una cioffecasse si ho aspettato si adesso è dentro quello forse anche meno di quello che c'è in un forziere normale si si ho preso il monitor mi sto aspettando di trovare un'offerta decente mi fanno ammattire sembra una trappola sei 40 sei 40 per 480 4 terzi però se ti sento 20 hertz ogni volta che conto ho una risposta diversa prima 20 poi 21 il piccolo popolo il piccolo popolo mi ha reso folle le rocce non affaiono e scompaiono così l'LG 27 27 27 polisi 4k no no 4k 144 ed io non so se piangere o ridere ho contato le tue sentinelle di roccia ehi quanti fanciulli e quante donzelle danzano chi è che mi ha reso cosa sono 31 21 27 anzi facciamo 27 come il monitor vediamo se porta fortuna ora però ne ho contate 27 com'è possibile hai visto cambiano sempre cambiano sempre ti prego conta di nuovo per me e per il mio senno danzano i fanciulli e danzano anche le donzelle non ottengo mai lo stesso numero cambiano sempre cambiano sempre peste corne tuoni ne ho contato i 26 ne ho contato i 30 ne ho contato i 21 beh interessante quindi torno a te cosa consigli non bello bello dai spara un numero 26 30 o 21 30 30 vediamo forse sono 30 hai visto cambiano sempre cambiano sempre ti prego conta di nuovo per me e per il mio senno danzano i fanciulli e danzano anche questa è follia cambiano ogni volta non chiudere gli occhi o ti ruberanno la luce e la porteranno via 27 19 23 avanti non lo so c'è il mistero di 26 no non c'è adesso 27 19 23 vai sparate tanto qua non lo so ancora 27 sicuro non riesco a capire ora ne vedo 27 hanno stregato anche te danza e balla salta e ridi arriva poi se non ti decidi chi è uscito dalle fauci come un grosso coniglio nero senza gambe ti vedo brilla spiritello 27 21 23 24 22 22 22 non so davvero come aiutarvi in pezzo di quando recitiamo i video cazzo non dovresti restare qui vattene prima che ti prendano no è folle è screamer che gioca con me ha lanciato una qualche stregoneria si è frezzato un'altra volta no quella pietra è sempre stata lì e dov'è il mio folle amico ma questo luogo è maledetto va bene niente è un'allucinazione abbiamo portato a casa i punti grazie per la partecipazione via no neanche le xp l'abbiamo portato a casa le xp e basta va bene ok va bene come l'ho detto c'è qualcos'altro qua vicino da fare si utilizziamo questo bel viaggio rapido e ce ne andiamo qui a Kroinden via ale anzi andiamo di qua andiamo prima di qua passiamo a questo via siamo sì i misteri di sto gioco qua sono inchiaccianti il primo giorno tutti o suicidi omicidi famiglie martoriate c'è una roba l'ho detto c'è io in questo gioco in questo gioco qua tolto le secondarie tolto i misteri che ho appena detto ho visto anche il personaggio sto qua cavarsi un occhio così c'è una roba fare morzarsi un braccio cioè una roba c'è neanche non so neanche nell'esorcista neanche ne boh non so il bello è che non c'è scritto niente sulla copertina non l'ho letta ma ci dovrebbe essere vietato i minori di di non so quanti anni si vabbè i cinghiali sono in meno quando si è cavato agli occhi se venivano fuori dei cinghiali guarda venivano lì a venivano a prendere e basta cazzo cazzo si fa questo qui è uno yotun non dovrebbe essere qua questo qui è uno di quelli che c'era quando mi son cavato l'occhio vai vai piccione dammi una mano piccione cazzo no pensa tutto piccione oh cazzo vai vai no penso che questo si cioè non lo so cazzo si a jotenai sono tutti puffi però vedi delle robe ghiaccianti a jotenai lo siete perso ma meglio così ti ho detto io pensavo di vomitare c'ha dato i punti no non ce li ha dati cazzo c'ha dato l'XP ma non i punti andiamo a vedere cosa c'è XP hanno funghi allucinogeni ovviamente saltano fuori i grandi puffi quelli lì che c'è che chiamano i puffi sono gli abitanti di jotenai che sono la terra vicina ad asgard e ci fa le missioni ci fa le missioni lì dalla veggente belle quelle missioni quelle sottomissioni lì sono molto belle molto belle però quella a jotenai veramente pensavo di sboccare non vi dico niente di particolare ecco perché l'unica cosa che vi dico per non spoilerarvi niente che sia ad asgard che lì a jotenai e oltre che partivano via arti pezzi del personaggio così però andavo in giro con una renne sembrava di essere a natale ah qua c'è un scrofa da battaglia ma è un toro tra l'altro anche incazzato no vai piccione pensaci tu vai vai piccione vai attacca secondo me il piccione non ce la fa però fai il suo dovere stai lì almeno stai lì stai lì bravo punta punta cazzo non ce l'ho mangiato era meglio che non chiamava il piccione va cazzo 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 minchia oh d minchia come c'è cazzo cazzo mi ha massacrato sì se non uccido non so più figa ma sono tutti qua con me se l'hanno e non so più di prezzo da puntare la scrofa zigate niente non ce la facciamo è bello che è salvato perché ho chiamato il piccione porco zio si li butta giusti qua meno male che ho i scalibur cazzo proviamo a distruggerne uno alla volta e poi ci troviamo un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. E non c'è neanche l'analizia. E non c'è neanche l'analizia. E non c'è neanche l'analizia. E' bello che non c'è neanche l'analizia. Dimmi che c'è un po' di analogia. Dimmi che c'è un po' di analogia. Dimmi che non c'è un po' di analogia. Cazzo no. C'è un cazzo. C'è un cazzo di niente. Vedi che se ne prendi uno alla volta. Riprendi uno alla volta. Non sono impossibile. Adesso scappa. E' un po' di analogia. Non c'è neanche l'analizia. Cazzo no. Cazzo no. Tò. Muori. Scrofa. Scrofa di M. Maledetto. Eh sì. No ma infatti mi hanno preso dentro una volta. Erano in 18 tori. Cosa ci fai? Niente. Non ci fai proprio niente. Infatti è appena morti gli altri. Boh. Andiamo qui a Crondina. A Crocodile City. Maledetto. Però è andato bene. Aspetta va potenziamoci. Se non c'è voi Stalibur. Non so come. Asistenza. Cazzo questo si. No cazzo. Non ci arrivo qua. Fì che io volevo prendere questa. Fì che giro lo devo fare. Potenziamo la scena da nero. Dove che ti dica. Combo. Non è anche questa qua. Niente dai andiamo a Crocodile City. Dice qualcosa di inampeggiante. Deve essere bloccata dall'altra parte. Qua è tutto bloccato. Vediamo se riusciamo. E non c'ho le frezze. No scusami. Ah però posso passare. Cazzo. Non c'ho le frezze. Passiamo dalla fine. C'è un Peer. Guardate ma lunedì a quest'ora qua io sono. Ok però se vai dentro. No eh. No eh. Magari. Ho finito le frezze. Cazzo. Entra. Su. Non è difficile. Su. Va bene. Questa me la soglia. è una per armi. Maledizione. Cazzo. Ma dai non stiamo andando male. Potevamo andare di peso. Escludo quella volta lì che è frezzato il gioco. scendendo. Niente. Va bene. Stai qua. Non preoccuparti. Andiamo. C'è qua. C'è qua c'è. Teorie. Dovresti salire su di qua. Saga di Re. Ma è fantastico guarda. Pagina della saga ottenuta. Ci ha dato due punti. Fica. Cazzo la pagina della saga. E di qua cominci ad entro. Di qua forse. No. Va di qua. No. Sì, sali di qua Non ci vede, non c'è Via, dai andiamo via perché è qua Cibo, cibo, no Adesso mi va a dare una mano, mi interessa E mettiamoci anche questi due talenti qua, va Siamo in questa prima impreda, prendiamo combo dell'arco da caccia Dobbiamo andare qua Danne dell'assassino C'è danni furtivi, colpo Kree Finiti i punti Finiti i punti Qua cazzo c'è Uuuuh Fogliette Vediamo da che parte Da che parte Cazzo Vai, 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 corre, corre Salta su Corre, 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 corsa acrobatica no preso è andata bene è andata molto bene e altri segreti qua qui è un po' lontanino è andata molto bene no è tranquillo cioè tranquillo doveva infilarmi nell'albero cioè tra l'albero e il muretto ma no meno male che non vola via dal cavallo tanto facilmente no perché saranno qua per andare addosso delle guardie se ci fosse delle bacche sarebbe anche buono invece le bacche non ci sono tirare su un po' le energie no perché bacche bacche arco servono perché qua quando incontra dei nemici forti dell'energia va giù poi questo sembra interessante eh slega mi guardiamo qualcosa guardiamo qualcosa domanda idiote beh interessante mio padre pensa che è un mostro acquatico ha anche il terribile causi delle inondazioni e mi sacrifica per placarlo io non penso io so Godfrey l'ha visto con i suoi occhi beh ottimo padre dunque vuoi gettare tua figlia nel lago sperando che la bestia accetti l'offerta è più probabile che anneghi detta così sembra una cosa stupida guardate eccolo non lo vedete fendere l'acqua con le sue pinne demoniache chi è il mio cavallo chi è il cavallo bagato è io fuggirei se fossi te tuo padre è pazzo grazie ma il cavallo bagato c'è dove e allora scusami allora il padre vuole buttare nel fiume la figlia però il padre dice di vedere qualcosa nel fiume però qualcosa nel fiume lasciamo stare non c'è niente tolti il cavallo bagato la figlia vuole stare col padre si beh il cavallo può stare lì anche altre 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 5-6 giorni così tanto ormai è lì ma vediamo se c'è qualcosa che può aiutarmi a fare la missione che là in fondo c'è una barca puoi andare a vedere la barca non ne sono affatto convinta no c'è qualcosa in acqua no non c'è un cazzo vai andare a prendere un attimo quella barca qua ma si tocca qua con i comandi gira la barca proviamo a vedere se portando questa barca come cazzo era qua no non fa n'�� cosa no non fai n cosa fai niente Eh scusami Vediamo il piccione Il piccione se si dà qualche indizio Se il piccione si dà qualche indizio Bisogna andare a vedere il lupo Vediamo un po' delle frecce Perfetto E poi a un certo punto No Allora Questo non parla più è terrorizzato Lei vuole stare col padre che la vuole uccidere Cerchiamo qualcosa qua Aspetta Se questo sarebbe il demone Troverò qualcosa per dimostrare che è solo un relitto Questo dovrebbe convincerli a non sacrificare la ragazza Dufnac Forse Andiamo se la ragazza No la ragazza se ancora Cazzo ma tutti pazze ho qua Beh Non era che legname vero Il vostro mostro marino è un relitto Cosa? Ma avrebbe potuto scoprirlo qualsiasi viola che si fosse tuffato Senza offesa Lo dicevo Lo dicevo che non era niente Che stronzo Sei come tua madre Non va mai bene niente Sono stanco di ascoltarti Tutta questa macchinazione Per un problema così banale Te lo perdonerò Eri disposto a uccidermi? Hai diritto alla giustizia Decidi un verdetto e io lo eseguirò Grazie straniera Padre Ora vattene dalla mia casa e dalla mia vita D'ora in poi sarò un orfano E ricorda Se mai tornerai Sarai punito per i tuoi crimini Vieni Griseld Sarò io la tua roccia ora Addio Griseld Ora sei libera dalle angherie di tuo padre Avang Avang è un nome un po' Completa tu il nome Figa Andiamo a vedere cosa c'è qua Avang Cavallo è ancora No è uscito dal lago Se lo chiami si sbaga il cavallo A volte Venga via via Stammi lontano È one No è uscito dal lago No no Qua Cazzo Cazzo Ah Ah Eh non ce l'ho appena Stasera Stasera Figuatene Lunedì sera Sono appena appena un po' di più sconnesso Già se riusciamo a depredare sti forziere Sì sì dai l'allarme Sì dai l'allarme Abbiamo anche l'abilità Cazzo Scoccare Sul bersaglio Forza Guardiamoci le spalle Non viene a correre Secondo me non c'è Proviamoci Sto facendo una cazzata Venendo qua dentro Cibo Oh Cibo Dove cazzo sta Di sopra Se pareva Ancora di sopra Questo Ah no L'armatura Fermati E non ci saliamo Di sopra No Sì No Non c'è Perché non ci saliamo Passando di qua No Cazzo Cazzo Non hai più scappo Mi contentavo Con uscire dal balcone Mio È la tua Ora Proviamo qua dietro Oh Sì Ha anche un Serpente Qua dentro È andata bene Trappola di polvere Incendata Andata E le ricchezze Stiamo a prendere anche Riusciamo Le ricchezze Senza E le ricchezze Il brivido Della caccia Se scendi Se scendi Se scendi Non c'è la pazzata Scendi Oh Opla Beh anche da fare Non possono entrare Questo Questo Cazzo Ce l'abbiamo perso No ancora Va bene No Non sono io Ah Deve essere un ancora Qualcosa Non ho capito Non ho capito Cosa abbiamo Però Boh Qualcosa Sbricciolata Cazzo Stiamo Dove andare Di qua Di qua Lì Non c'è Nessuno Non c'è nessuno Date meno O peggio Del previsto Mirate a quell'idiota Vai per morire Vediamo il prossimo mistero Allora dovremmo fare qualcosa di alterna Questo mistero qua Non dovrebbe essere una storia adesso Dove essere un'interferenza Qualcosa Qualcosa Che comunque Non è una roba Da fightare O Un'investigazione Dovebbe essere qualcosa di diverso Teorile Come potrò mai vivere Una vita felice Se avrò solo La tua stupida faccia Da osservare Ma la mia faccia Ti piaceva Sì E perché state discutendo Perché mio marito Ha il coraggio Di un ghilo Tremebondo Io chiedo Soltanto un figlio Beh Non vedo come potrei Aiutarvi C'è una roccia Un luogo Di grande magia Si dice Che se una donna Vi trascorre una notte Tornerà gravida Di una roccia Della fertile energia Che sprigiona Da quel luogo Devo scoprirlo Io stessa Mi proteggerai Lungo il cammino Poi la delziamo La donna Di cammino Ogni mia conoscente Tornata dalla roccia Ha concepito Un figlio Un miracolo E questo non è Un credo cristiano Fammi indovinare Adesso ci attacca il lupo Sento odore Di attacco di lupo Oh no Non aveva mai legge Si è passata da parte Vai piccione Pensaci tu Chiamiamo anche il mio amico cane Eh ok Si è passata da parte Di grande magia Uccelli che diventano lepri Lepri che depongono uova Noi norreni abbiamo storie più strane Ecco ci siamo Forse quel borbottoni aveva ragione I lupi sono temibili Ti ringrazio Mi hai salvato la pelle Questo è il luogo sacro Wow Un altro è Visto che era visto Aspetto Facciamo pulizia Mi dà anche due pezzettini di ferro Grande ostare Concedimi la tua benedizione Dammi ciò che desidero Con tanto disperato ardore Un sasso in testa Boh Un figlio No Ostara saprà esaudirti Attraverso il potere Di un sacro rituale Siete qui entrambe Per avere il suo Aiuto L'arma segreta Del gioco La riceverà E sarà felice Farò quanto richiesto Per tutta la durata del rito Giuro Qualsiasi cosa A me non sembra tanto un rito Sì sì Beh a me non è che sembra tanto un rito Cioè sembra che si stanno andando a imboscare Però E so anch'io che La roccia della fertilità Sì mia cara Ricevi il potere della dele Prendilo tutto Ma 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 No E ve l'ho detto Dico Il rito della fertilità Va bene Va bene Cioè Va bene Come l'ho detto Via Andiamo a fare la prossima missione Va Stanno dicendo Mi dice Sì sì Andiamoci verso qua Va che ci serve Sto amicozzo Sperando che sia Dice che Ci abbiamo Aspetta Se ci abbiamo un trasporto Lo prendiamo Beh Andiamo qua Va Sì no Sì te l'ho detto I misteri di sto gioco qua Sono veramente cringissimi Cioè Io ne ho visti Tutti i colori Dopo che ho visto Cavare Il personaggio Che si cavava un occhio E si tagliava un braccio Allora Mi stupisco Cazzo Sono più lontano Cazzo è andato Sarai stronzo Io vedo qua F***a Sta scappando Andiamo Adesso Dall'altra parte Della mappa Mi stupisco Se vuoi andare A quel cavallo Nooo Gliuppi F***a Grande dragos Grazie per il prime Mitico Drago Azteco Deve ricorda di... Come perché? No, perché? No, no, grazie Drago per la sub Per la super sub Prova gratuita di prima Prova gratuita di prima Ah, non voglio sapere cosa state combinando Ah fighe, c'hai pure le trollate C'avete la trollate? No, vabbè Io la prendo come buona Poi se state trollando, cavoli Non riesco a controllare il cavallo Porco zio C'è bugato il cavallo Ciao cavallo No No, va solo di qua Non riesce e non gira Niente Ho paura Beh, va bene Raffanculo No, sei bugato Stai lontano Niente, adesso non me lo stai laggiù Adesso non farò i go No, vediamo se va No, vediamo se va No Niente Come va adesso il cavallo ha bugato Oh, mi si è bagato Mi si è bagato il cavallo Cazzo Ma è possibile giocarlo Ah, e se faccio un trasferimento rapido Il tizio della taglia scompare Cerchiamo il cavallo Non va dove devo andare Io odio quando fanno l'ottimizzazione del videogioco La fanno fare da chi compra il gioco Vediamo se adesso è ancora bugato Sì Ma mori male, cazzo Mori male Che continua a venire dietro Il bello che va E se uccidessi il cavallo Voi cosa mi dite? Se lo uccido No, se lo uccido Magari poi non torna più Meglio non fare cazzate Ma è stronzo Sì, sì, si può Se gli tira un paio di spadate Muore Vediamo Se io vado di qua, però Torna di là Maledetto Beh, aspettiamo Prima andiamo a uccidere sto qua E poi vediamo Poi ci Cazzo Non lo posso ingaggiare Dove ci sono le guardie Cazzo Facciamolo andare Figa, cazzo Qua c'è pieno anche di guardie Cioè, è peggio di un film oro Sta roba qua Il cavallo che mi sta trollando Dice Vieni, vieni qua Così ti porto via Il nemico lì con le guardie Ehi, cosa è? Hai bevuto troppo? C'è un bel Non è difficile Allora D'accordo Porco dio Ho bisogno del piccione Vai piccione Vai grande Il piccione lo sapevo che No 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 a tutti questi qua io non me li mi aiutavo mica Cazzo è il veleno no Passi Il canto flame Cioè peggio di colino poteva andare E muore anche te Cazzo Maledetto Possiamo anche fare viaggio rapido per evitare di Tutti questi uomini di dio Addobati d'oro e targetto Un bagliore tale da ciecare Siamo già ciechi No basta Dopo il cavallo Lui non era cieco E ha combattuto al fianco di Artonius E da allora che Dopo il cavallo bagato basta Perché lui è uno zelote Un cacciatore d'Italia Uno dei cacciatori d'Italia Che ci serve tra l'altro Per prendere l'elmo di L'elmo dell'armatura di Odino Cute bear Sì sì perché era Era lo zelote Ce ne sono pochi C'era uno per ogni contedisti qua Sono Tipo di personaggi Speciale Per andare qui però ci andiamo Qualcora vediamo se si sbagga il cavallo Allora 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 Porco zio Non c'era Non c'era il coso di Pai da sotto Però abbiamo delle rune Aspetta che mettiamo i talenti Mettiamo i talenti Salute Volevo prendere questo Quindi C'è da andare Qua La resistenza di Stem Qua Basta Finiti Inventare Vediamo anche se c'è dato delle rune Interessanti Più 4 2 Vediamo se c'è No Questa Runa Della Villania Incrementa danni d'assassino Quando la salute No Non mi interessa Ce l'ho Ah ce l'ho su Questa ce l'ho su Incrementa resistenza a distanza Quando colpisci i nemici Con le mosse finali Meglio Vediamo se ce ne abbiamo una Un pochino più potente di questa Questa cos'è Runa Un'altra Una della Una resistenza a distanza No Una dello scudo Quella che c'è su Vediamo qua Se ce ne abbiamo altre Se ce ne abbiamo altre Più Più Resistenza corpo 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 Resistenza agli attacchi leggeri Vediamo se ci abbiamo Più 2 1 No Questa si Questa si Questa possiamo sostituire Con questa E E E Basta Più 2 Più 2 8 Più 11 No Fì che si è messi Qua possiamo cambiare qualcosa Questa da 1 La possiamo cambiare La possiamo cambiare Con una runa da Una runa da Una runa da 2 Una runa da 2 Sì no Meglio Di questa Non ce ne abbiamo Qua Non ce ne abbiamo Qua Qua Meno 1 Meno 2 Più 6 5 danni critici No Va bene così Va bene così Se no va bene così Vediamo se il cavallo va bene Non arriva Adesso forse arriva Con calma Va Si può guidare Si può guidare E' guidabile In condizioni normali In buone condizioni Anima impura Assassina Non sfuggirai Al suo squadro Che è questa parana Non c'era nessuno Questa tomba è stata aperta Sembra che qualcuno Viva qui Che Questa vuole vedere Coi vuole vedere Alien Alla skip this ad, just like you skipped that I'm buying Amazon stock and Google and Apple lucky for you there's e-tool no 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 ok come on, see ok andate oh ma una che mi vada bene qua no allora vediamo un po' però se c'è la chiave dentro aspetta un attimo qua qua si vede qualcosa si vede un case allora c'è l'entrata del boom di sta tomba qua che chiuda davanti questo non si muove ci deve essere dietro qualcosa allora vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' qua si ha un cunicolo che perciò 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 Non riusciamo a farlo un attimo No, come non ho detto Dai un'occhiata L'ingresso è lì Guardi qua c'è un altro ingresso No, no, no Sì, sì o no? Cazzo, sono due ingressi? Va Va, fa un bagno, va È un altro ingresso Cazzo Allora adesso ci entriamo Andai a fa un bagno Sembrava lo stesso ingresso, cavolo Ti ricordi dell'ammazia di Cersi? Di quale impietà vi fu commessa? Vabbè, sto qua che parlo Vedo i loro occhi vidrei Nei miei sogni Li ho seppelliti io Gli amici I compagni Eh, ok Bossa e carni Un pezzo per volta Persone fatte a pezzi come rami morti Ti ricordi dell'ammazia di Cersi? Di quale impietà vi fu commessa? Ne ha abbassia di Cersi Dov'è Cersi? Qua La bazia di Cersi è qua Ti voglio far andare qua Sicuro Vedo i loro occhi vidrei Nei miei sogni Li ho seppelliti io Gli amici I compagni Quindi andiamo a vedere un attimo Cosa c'è lì Alla bazia di Cersi Ossa e carni Che I miei fratelli Quante persone hai ucciso in questi boschi? Ma no, è qua E che cazzo mi dici dell'abbazia di Cersi? Sarai cibo per lei Era un uomo di pace Ma tu mi hai reso un omicida Io non ti ho fatto alcun torto Cazzo Il monaco La tua sete di vendetta è stata placata Adesso riposa Ma Fall Non ci do che più oggi L'ho riaperto Ma no Aspetta Fall? No Se l'avessero appato Quando era appena uscito Sì Il punto è che non l'hanno Non l'avranno aggiornato Quando era appena uscito Quindi No Niente Quindi ci risparmiamo il viaggio Fino alla bazia di Cersi Sì sì Fall guys Bezzare io fino a Fall Googies Purtroppo guarda Dopo che ho fatto una partita Che c'erano dentro Due o più che citer L'ho qui Eh più che altro sì Più che altro Avevo smesso di giocarti Quando facevi le partite Ti trovai due o tre citer A partita Minchia Vai Cosa vedi Vecchia amica Vai Comunque Hanno messo l'anticit L'anticitazione L'hanno messo Cazzo è un fatto A mettere l'anticitazione Minchia Devo spostare anche sto Devo spostare il cadavere No era Vaffanbano C'ha Si scrive Como Itrow Empoli Taranto Empoli Itrow Forse Sì Vedete in maniera un po' Baldanzosa Cheater che ha detto in italiana cheater andiamo qui velocemente aspetta facciamo venire un po' il digiorno si si no ma comunque ho capito ce l'ho anche comprato 20 euro spesi benissimo peccato che per i primi 3 mesi di gioco era la fiera del cheating quel gioco lì qui è dove il monaco ha compiuto la sua oscura vendetta contro le sue vivine la faccia del monaco la faccia del monaco figa grande monaco cazzo era pieno di roba il monaco faccio in live action la mia faccina dei video pari con la bocca verso che adesso è passato c'è stato un periodo in cui passavamo tutti e chiedermi fammi la faccia di video fammi la faccia di video l'ho messo lì in coso e ne dobbiamo andare winchester no cazzo qua non ce la facciamo farli sarà molto dura vita morte 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 vita vita morte e questo proviamo ad andare a farlo eh cioè di strada i codici creatore si pompermone energy potrei su forno e pompermone energy ma purtroppo non lo sto più portando purtroppo quando è diventato così sportivo cioè non è che non ce lo porto perché cioè essendo un e-sport dovresti giocare un botto di ora al giorno che io non ho tutto quel tempo lì da dedicargli no no lo so che è carino cioè è un bel gioco solo che essendo un e-sport proprio e-sport cioè se io io quando anzi non se io quando faccio quelle robe lì mi incaro ogni cioè o le faccio bene o non le faccio solo che obiettivamente non ho non ho la possibilità di fare bene di portare bene un e-sport un po' per l'età un po' e poi per il tempo poi l'età riflessi cazzo già ho perso i capelli figurati te riflessi questo tesoro qua che sta girando mostrami ciò che ci attende perché siamo su un tesoro porta sbarrata ma tutti gli eventi gli eventi di Fortnite obiettivamente sono molto belli questi non so se riesco a batterli cazzo cazzo cioè tutto quello che poteva andare male milioni e persi voglio vederlo mi incuriosisco come milioni e persi mi incuriosisco cosa? milioni e persi mi incuriosisco cosa? Magistare l'evento c'era il buco nero e i due server ha detto l'epic che saranno dei giorni server offline ah e vabbè che fare loro però se ci sono i server offline stiamo due giorni a guardare il buco nero questo si questo no aggiriamo subito quest'idiota bella questa dash cam nel però mi manca ciao ragazzi minchia oh porco zio capito insieme vaffanculo io ci protegge io ci proteggo io volevo solo prendere si scendi posso che fare che sarai stronzo io come accedo qua ragazzi scusate ma non sveglio è lunedì sono rimba no 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 non sono andiamo a questa e via figa cazzo è un lingotto d'oro no è tungsteno figa è il primo lingotto di tungsteno che troviamo ma cazzo qua siamo un po' troppo siamo in una zona un po' off limits per il momento ancora non ce l'abbiamo ancora qua a livello 340 andiamo ad andare a questo qua che è più ha un pelino più alla nostra portata ecco vediamo un po' ah ciao nonno la roba in fiamme ciao ragazzi tu perché non ti inchini al tuo re inchiniamoci al nostro re così tu puoi rubare il tesoro reale guardie perché non l'ho ammazzato andare anche i cari tutti pazzi qua ciao ragazzi buonasera 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 a tutti va bene un altro pazzo di questi misteri ci abbiamo i punti da segnalare no no ci abbiamo un cazzo di punte questo me lo c'è sempre bugato strano che c'è un bug nel gioco che fai di bello? stiamo farmando stiamo guardando un po' di misteri in giro per la mappa formando XP nel mentre cercando di non morire cosa molto facile tutto questo per cercare la leggendare armatura di Thor con in mano Excalibur per poi andare a finire Valhalla sì no le storie qui sono veramente le storie qui sono qualcosa di cioè chi è là? i fuochi fatui della palude deposita ogni tua ricchezza o non vedrai più la luce del sole spiriti e di qua c'è uno che ci parla lo scoprirò presto ah non c'è uno spirito cazzo è sta roba qua abbandona il tuo tesoro per scappare per scappare dalla nebbia finchia qua ha dato fuoco a tutto qua c'è una statua cazzo c'è qualcosa c'è un oppare ma scusami dov'è sto tizio qua? che cazzo non si vede una mazza qua ho bisogno dei tuoi occhi cazzo ma questo qua ha piccato fuoco mi parla se qui resti farò qua perché allora vediamo che allora farò uno tanto farò per farò allora qua c'è un farò acceso accendiamogli anche qua se si sappia mai che no lì devi lanciarlo cazzo qua c'è un altro farò non si vede più una mazza qua c'è un altro farò e poi farò sono finite allora abbiamo dei farò e uno che ti parla da un altro qua non di là torna indietro o sarai perduta aspetta un attimo ma c'è una statue ci hanno trovati niente mosse improvvise chiaro ecco gli spiriti misteriosi ma tu e i tuoi amici impaurite i viandanti per farvi consegnare le loro ricchezze è così siamo gente pacifica la violenza non ci piace volevate dirubarmi chi è il suo amico una triste necessità ah no ci sono anche loro non ho tempo per questo addio diamogli un suggerimento perché non appendete delle statuine dosso ai rami chiunque le vedrà sospese nella nebbia rimarrà terrorizzato una grande idea così faremo tieni lascia che ti ricompensiamo per il tuo aiuto grazie vi andate bene chissà ascoltare una statuna non possiamo usare del legno le ossa mi danno i brividi l'idea è quella idiota cazzo figa cazzo non si vede niente questi falò qua sembra la nebbia che c'è qua piacenza c'è qua piacenza cazzo qua sono pazzi strano cioè applichiamoci i talenti non avrai mai idea mira di emergenza ci stiamo arrivando mondo vediamo un po' possiamo andare qua approfittiamoci andiamo andiamo con viaggio rapido qui il viaggio rapido ci andiamo giù cazzo vabbè sarà forziere qua per qua no giù scendi no no lì ha sbagliato vediamo se lo recuperiamo oddio santissimo ci abbiamo sì ci abbiamo non devo sbagliare vediamo se riusciamo esplodeva mi facciamo abbiamo sbagliato affambanda andiamo a fare un altro mister volevo fare esplodere lì cazzo c'è ancora la freccia sì 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 dimmi che c'è ancora la freccia sarai stronzo però figa maledetto non c'è esploso il muro vabbè sarà per un altro sarà per un altro giro la voce di una bambina non vediamo cosa ci capita qua la voce proviene da quella caverna secondo me secondo me è una trappola ti aiuterò io grazie pensavo che sarei morta io mi do sempre dei buoni consigli ma li seguo molto raramente sei ferita resisti ti porterò fuori è l'ultima volta che seguo un coniglio specie se bianco ora un po' di riposo e poi via verso nuove avventure non ci credo una missione semplice ctrl altcance eh sì no la caccia ci faccio non è colpa mia cioè se il gioco cristo toffero colombo mi dissocio cazzo si è piantato un'altra volta sentire di sottofondo ma è dall'aggiornamento che ha fatto l'altro giorno è dall'aggiornamento che ha fatto l'altro giorno ok che si pianta si è fatto un bar si è chiamato cazzo ne so faccio mica niente adesso di programmi che ci sono sotto non ce n'è dettaglio c-c-c-c-c-2 framework attack ping 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 no va bene gg cazzarola figa spero che mi tenga buono va bene la missione del bambino ci mettiamo 30 secondi va spero che mi tenga buono da lì cazzarola no scherzato niente sento un rumore in sottofondo che è Ubisoft mi sembra che c'è sotto sto comandando il personaggio e di ciu 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 ho salvato ho salvato una bambina missione facile ovviamente crash gg gg ma ciu 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 dentro non lo so c'è qualcos'altro qua siamo arrivati tonno è poliedrico non lo so però il cavallo va che vuole adesso prende all'acqua va è qua su queste piante io allora c'è qualcosa su qua ci sono già passato l'altro giorno sotto ho messo qua parola d'ordine cosa apri e basta no devi seguire le regole devi dirmi la parola d'ordine mela corvo leva ti ritorno drago palola d'ordine spara vai andiamo tolte mela mela? si benvenuta carissima cliente benvenuta al piccolo mercato nero picca wow chezzo inaspettato allora scegli tre ok dove sono questi tesori vedo solo cianfrusaglie questo lo pensi tu questi tre oggetti sono veri tesori guarda posso offrirti una scarpa speciale una conchiglia barriopinta e un verme essiccato va allora che cosa vuoi cosa vuoi drago scarpa conchiglia verme essiccato ne sono dei tre e l'offerta le facciamo questi qua vediamo un po' il verme il verme essiccato sembra un rametto questo perché il verme ha più di 8.000 anni se l'avrai con te vivrai per sempre ma non devi perderlo o diventerai di polvere è questo è certamente un incantesimo apportentoso lo prenderò e vediamo che tu possa vivere finchè la luna sarà in cielo qualun'altro e adesso pronta dai le prendiamo tutte facciamo anche dai figa 40c hai comprato tutti i tesori grazie siete ritti ragazzi addio piccola cos'è questo la carta nella scarpa e uno scritto forse questo è davvero un tesoro guarda quanto c'è dato le carta nella scarpa e uno scritto portami anche il dente di tua nonna lo venderò una fortuna ma aspetta una cazzo qua però non è completato voglio il piccione sai che non mi ricordo dove cavolo l'ho preso l'ho preso il mercato però non so dirti dove adesso non mi ricordo ti comunque lo trovi facile il piccione ma allora aspetta un attimo ci ha dato qualcosa cosa ci ha fatto prendere se qua nel ciao la schema emblema la saga di re la saga di re che schema sembra spieghi bravo che cazzo siamo in tilt ragazzi tilt o tal no finito cazzo cazzo ma ce la facciamo no non c'è e basta direi che direi che siamo però ci ha dato una mappa dove è questa mappa qua 3 ti ha detto che nello stivane c'era qualcosa e adesso io che emblema vediamo poema no folli vaneggiamenti una piccola caccia avvertimento agli stregoni mappa del tesoro io lo stavo ti da una mazza sta qui fa un cazzo va beneek come non detto niente mappa del tesoro va bene ok xx Donnamo Donnamo che famo Qua rimane per sempre la vita naturale Vabbè Attenzione è arrivato subito il cavallo Forest tour Prendiamo un po' ste bacche qua Forest tour è il prezzo alla fine della fiera balalla O aspetti Ma questo cazzo Cada della strega No aspetta Eh non è una brutta Non è una brutta scelta Non è una brutta scelta Vediamo se ti passiamo Minchia Ok vabbè Come non detto Questa abbiamo Una 970 Eh Sì 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 no Infatti te l'ho detto che non è una brutta Una buona idea anche perché Adesso Ti aspetti un po' Magari lo trovi con un po' di sconto Che è meglio Allora dove ce ne andiamo Dove ce ne andiamo Chi è che canta Allora vediamo adesso Il tesoro Il tesoro Cazzo Qui è un pezzo di un'armatura Riusciamo a prenderlo Il punto di domanda è Riusciamo a prenderlo Dai Allora dentro la chiesa è di sicuro Passiamo di qua Ehm Sì Devi saltare Sopra Ci dovremmo arrivare Spero Ci dovremmo avere Niente come non detto Vorrei mica Qua c'è altro Qua c'è altro Ok Di qua Beh Bella domanda Dov'è il suo scrigno qua? Hmm Cosa di qua Sì Sì Veste del mento No no È dentro È dentro È dentro È dentro Solo che Fighati Fa sempre fare dei giri In ste robe qua Insomma Girare ti fa girare Ecco Infatti per uscire Infatti per uscire Usciamo ad andare di qua Perché La spada Non so dove è andata Cioè Si è rifatto No Dovresti salire La scala La scala Ho capito Che ti piace fare Spider-Man Ma Non è David Morales Andiamo Oh Andiamo E qua Vai passiamo tutto Tanto Tanto La ricchezza Questa grossa L'abbiamo Prenda Quindi Se andiamo All'altro Evento L'abbiamo però vediamo cosa ci succede qua comunque molto bello spiderman eh no lo so che è molto bello solo so che beh è valido lo spiderman gli dà il morale sfiga ma era una situazione perché i comandi sono sono molto precisi di sto gioco qua se sbagli un attimino c'è salta va da tutte le parti su qua e va bene ok sono qua eh no va bene facciamo così facciamo riposare un attimo e vediamo tanto oggi abbiamo fatto tutto credo che sia fuggito verso nord cosa vedi vecchia amica proviamo cazzo è Fenton vediamo verso nord vediamo se troviamo sto Fenton qua ma che poi cos'è Fenton ci sono dei lupi qua ci sono dei lupi è il verso di una pecora e non sembra felice figa è con i lupi la pecora cazzo dove l'abbiamo trovato minchia ma l'armatura com'è figa non lo so siccome la spada è di Excalibur dov'è la pecora potente quella pecora verrà sbranata se non faccio subito qualcosa la pecora tutto questo minchia maledetta come on sei Fenton giusto il tuo padrone ti sta cercando volevo dirgli capra ma è una pecora se gli dico capra quindi è un peggio di una come la porto io come la porto io la pecora quello là ho capito mi è andata da altissima Vento non ti seguirò in quella foresta stupida a masso di lana però questa è una trollata eh cazzo io come gli apporto la pecora già non ci credo non ci credo qui la faccio a fettine non ci credo no 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 portate la cucina no la ce l'ha aperta allora così non funziona così non funziona funziona la pecora segue il mio fischio andiamo ti riporto indietro vuoi tornare a casa non è vero maledetto ma te l'hai stronza andiamo ti riporto indietro vuoi tornare a casa non è vero non è il cavallo funziona anche con gli animali selvatici sta roba qua bene più normale che altre missioni là per fortuna sono arrivata in tempo comunque anche a me per due cavalli avanti seguimi no cazzo vai vieni qua per fortuna sono arrivata in tempo ah eh guarda ecco qua mi sei sfuggito per l'ultima volta brutto montone da ma pensavo che era crashato un'altra volta con calma dopo tanta fatica tu uccidi quella povera bestia non posso permettermi di uccidere una pecora per golosità ma l'aldermanno vuole così e io devo obbedire a dire il vero sono anni che volevo uccidere quel bastardo Fenton era un gran scocciatore e tu mi hai fatto un favore straniera prendi della carne per l'aiuto l'aldermanno non se ne curerà almeno ce n'erò con sto fatto di montone addio beh almeno ce n'abbiamo per l'XP però non abbiamo per cazzo adesso per prendere per prendere livelli fighe ci vuole ci vuole un voto di roba avversario di Chichester facciamo questi due posti qua che sono qua vicini tanto a che livello siamo? 25 meno del previsto ma non male non male direi se riesco a tenere alta linea e poi andiamo a fare quel c'è qualcosa di sbagliato qui di Bile andiamo a fare andiamo a fare quella figlia di Lerion lì figlia di Daughter minchia ah sbagliato abbiamo sbagliato abbiamo sbagliato un buco e di là sei di qua sembra che due cazzo inserisce minchia prendi raggrappati sposta no non sposta proviamo niente non si riesce a spostare boh adesso adesso si sposta vediamo se riusciamo qui si riesce aspetta sono bloccato non si minchia però Dino la maledizione non c'è più ah si mi fa un piacere vai ut ut si il cavallo ovviamente calma no no Vediamo cosa c'è in questa cortezza se lo individua si dividono anche se c'è qualche c'è un paio c'è un paio di archet dobbiamo fare un lavoro pulito molto pulito però ce n'è anche un'altra l'azione al massimo buono se non ti bughi se riusciamo a fare... c'è qualche frecce qua da rubare se le cose mi servono vediamo se ci sono altre frecce ottimo qua di qua aspetta un attimo possiamo andare di qua finita finita la fermati e muovi tutti con me forza guardiamo oh no devo andare dall'altra parte come se entriamo di qua? forse si forse si no non c'è parte da via no non c'è parte da via guarda il cazzo mi infilo dall'isola ci infilo passiamo da lì in alto wow e al cielo prima qui in alto secondo me non c'è il passaggio non è il passaggio che c'è che pirla cazzo no no oh oh strano che si è bugato qualcosa eh ah si 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 pensare se si ah niente non c'entro ah porcazza qui non ci arriva mica la freccia forse distrutto no ma sta camminando sulla no sta camminando sulla cazzo però figa e io non so dove vuole che lo lancio dove vuole che lancio la freccia e da qui ci potrebbe entrare però come on evidentemente non che vuol cazzo che c'era già di mezzo il coso eh però scusami un'altra, allora questo non c'è, come faccio ad esprirlo io sto forziero allora il coso da aprire è dietro quel robo lì questo è stato aperto e a meno che questo non ci va di là no nel piano superiore ci sono stato, non c'è un piazza, cioè nel piano superiore si ho ho rotto quella ho rotto sono in tilt il piano superiore c'era grata, forse, però penso che la forza non ce la vediamo ma vaffanculo, va porco giuda, porco giuda bella drago sai che non pensavo che ce la vedeva nella porta, porca cazzo grande drago stego figa, una per armi è entrata anche una roba pregiata allora ce ne è ce ne è vogliamo direttamente qua eh ma io figlio ormai mezzanalfi che sono sta andando in tilt grande, grande drago mitico sai cosa ci vuole? una coca qua è la famosa che dovevo prendere già da mettiamo qua metto in guida automatica il cavale, intanto vado, aspetta tra l'armi arriva vado a pendere la coca ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un po' un cochettino perché inizia ad essere un po' tra virgolette suonato. È lunedì e l'una di notte concedetemelo. Sono in piedi da stamattina alle 6, minchia. Sei in mezzo. Sapete perché si fanno da Dio sti misteri qua di Valhalla? Perché sono vari da Dio. Ormai mi sono abituata a Dio sti che poi i misteri sono praticamente secondari. Sintomi di identità multipla. Sono veramente, veramente vari. Ehi, vuoi farmi venire un colpo? Mio Dio, lasciami lavorare. Tanto mia mamma è venuta a rubarmi la Coca-Cola. Allora, vediamo un po'. Perché è diventata moderna? Perché è un'anomalia dell'animus. C'è una secondaria che ti fa fare un platform. Platform alternativo. Cioè, come i misteri, ovvero missioni alternativi, hai sti qua dell'animus, hai quelle di indagare. Cioè, ci sono varie missioni. Ma qua? Qua? Devo arrivare giù intero in fondo. Buono. Cioè, ci sono varie tipologie di secondare, ecco. E poi si ripetono. Per ogni contea si ripetono, perché alla fine sono sempre i soliti. C'è quella dei funghi allucinogeni, anche... C'è quella delle pietre da trovare. I zero grifici sulle pietre, no? Si ripetono per tutte le contea. Alla fine ogni contea ha le sue 10-12 misteri, sempre di stessa tipologia. Però si alternano, quindi li fai bene, ecco. Sì, beh, diciamo che negli ultimi Assassin's Creed, diciamo che la storia nell'animus è diventata un po'... Cioè, secondare. Cioè, Odyssey Origins era più che altro un robo... Delle avventure storiche. Fate benissimo, perché l'Egitto... La parte museo era bellissima. Molto bella. Se un appassionato di storia, Odyssey e Origins sono bellissime. Ma anche se qua, se un appassionato di storia, ci sono molte cose per dare il vero. Un po' meno di Origins e Odyssey, ecco. Perché lì che parlo c'era la modalità. Allora, e qua dove passo? A questo va? Beh, intanto sognarsi, no? Non fai che mie. E qua? E ho 10... Allora, c'è anche qua... Ma aspetta, ma... Dov'è che... Eeeh... Mi son perso. Allora, qua c'è... Dov'è che dobbiamo... Dov'è il finale di queste piatteforme? Qua scende... Lì, cazzo. Ma illuminate quella. E c'è da scendere. Odissi e tanti altri. Ah. E Odissi, Origins, i primi due. E molti altri no. Cioè, perché poi il secondo sembrava molto simile al primo. Poi ho fatto... Perché io non giocavo tanto. Però di Odissi e Origins li ho apprezzati tantissimo. Secondo me Origins è quella che è una delle abitazioni più belle. Se non la più bella. Odissi... Odissi, invece, fai l'ambientazione. Con spartani e greci. Figa, fantastica. C'è la storia tra spartani e greci. Figa, fenomenale. Oh, scendiamo, senti. Cazzo. Qua. E mo? Ti ori, dovrei andare là? Oh, devo scendere. Eh, devo scendere ancora. Oh, la madonna. Ma sono sicuro che devo scendere, sì. Ah, devo scendere giù qua davanti. Oh, io ci provo, eh. Oh, cazzo. No, morto, 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 morto. E poi, più che altro, il mondo di Assassin's Creed è ambientato in varie anni. Sì, è ambientato in varie anni. No, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. È ambientato in varie anni storie. Sì, solo che Fiii Origins e Odyssey, proprio, c'era anche la sezione di museo molto, molto bella. E questo? Dai, 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 dai. Questo c'è mancato niente, eh. Questo? Ci passavano di mezzo i capelli che non ho, eh. Mi ho portato via i capelli e... I capelli, in sto passaggio. Eh, però, devo tornare di su. Minchia. È giusto, dico, eh. Beh, interessante, dai. Beh, allora... No, cazzo, ho sbagliato. Poi, sì, 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 ah, sì, sì, ti aiuta anche, sì, ma... Ma sì, ma perché poi, alla fine, le cose storiche che dicono non è che sono... Cioè, molte sono giuste. Oh, morto. Oh. Cazzo. Ma allora, aspetta un attimo. Figa, non si capisce la mazza. Ah, quasi sono la stessa linea. Figa, si era passato, però. Cazzo. Oh. E per la sarei stronza. Mi sto sentendo triggerato, eh. Figa, andiamoci vicino. Era importante, eh. E poi... E poi... Ancora. Cazzo. Ah... Bene, bene, dai. Vengono su tutti insieme questi. Questo è interessante. Minchia, che sarai stronza. Allora, quando vengono su... No, è proprio non... Non ti deve piacere, eh. Allora, quando finisce di venerlo su, saltiamo... Troppo... Quando inizia di venerlo su... Adesso. Quando vieni giù. No, troppo, troppo, troppo. Minchia, oh... Allora, quando inizia di venerlo su? Allora, madonna, però dillo che se salto... Se salto muoio. Quando viene giù... Ce l'ho sfigato, eh. Quando finisci di venerlo giù. Oh... Quindi devo portarmi tutta... De, 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 de... Polco zio. Maledizione e cipalippa. Cristoffero Colombo, scopritore dell'America. 1492. Tarde. Con calma. Siamo calmi. Il sangue è freddo. Maledizione e cipalippa. Hop. Non è chiuso, è morto. Adesso. Tarde. Allora, quando inizia scenda, donna. Figa, non è... La finestra dove fare sto roba qua è piccola. Allora, sarai stronzo. C***o. Spacco qualcosa. Figa, eh. C'ha, i tempi strattissimi. Perché salti di là? Perché salti di là? Adesso arrivi in fondo, salto in fondo. Adesso è sbagliato il tempo. Cristoffero. Allora, quando sono in fondo... Amore mio, sei viva? Parlami e dimmi che lo sei. Vaffanculo. Sono viva. Muori. No, no, sono morto. È morto quello lì. E come ti senti? Mi sento... Sento l'ignore. Ma muori, va. Niente di più, niente di meno. Allora, attiviamo la piattaforma di sotto. E... San così. No. Fatto sbagliato. Guardi... Beh, qua ci aiuta. In teori... Se salti sulla piattaforma blu, in teoria... No. Sbagliato. No. Dov'è che sbaglio qua? Dov'è che sai passare? Allora, vediamo un po'... Se torna indietro... Se torna indietro qua non ci arrivo, eh. Proviamo... Proviamo a farlo così. Lasciamoci cadere? Eh, che ci sia qualcosa in alto, no? Allora, se mi lascio cadere, no? Proviamo un attimo. Se bacio davanti al radio... No, è per danno alla caduta che muoio. E allora devo tornare indietro. Aspetta, saliamo di sopra. Però non si può girare. Eh, aspetta una... Manca un pezzo. Questo l'ho direzionato di là, giusto? E... Non è un attimo una roba. proviamo è passato in mezzo è passato in mezzo è passato in mezzo e come scendo io di giù? scusami un attimo perchè vorrei capirlo anche proviamo a saltare su questo ci mettiamo qua c'è qualcosa questo? no c'è neanchezza proviamo a lanciarsi se si lancia no farsi cadere non atterra si torna indietro e quindi non tanto non puoi tornare indietro devo provare a venire giù qua? si aggrappa solo in mezzo e provassi a saltare da qui a lì non c'è dubbio che ci arrivo aaaaaaah di qua si cadono giù? di qua si cadono giù? aspetta un attimo guarda guarda cammina la direzione del raggio no ma la direzione del raggio la direzione del raggio vedi che la vede quello lì mi deve in teore che mi dovrebbe mi si dovrebbe attivare e questo attivo i cosi ok se io questo lo sposto da un'altra parte e questo diventa trasparente poi ma in teore ci dovrei saltare su non so aspetta un attimo allora se questo mi attivo e questo sotto mi attivo vuol dire che io devo andare di sotto e passare sul primo su uno e poi sull'altro però da dove? e questo mi è il punto qua non ce n'è di passaggio ehm qua volo di giù si io salto in avanti si no con il raggio messo diventa duro cioè diventa è una una normalia dell'animo una zona che piastra fuori però io dovrei andare avanti adesso dovrei andare lì in fondo dove c'è quella roba lì bianco però per farlo devo passare qua di sotto e ci passo solo dove c'è la roba bianca allora abbiamo detto no proviamo così non ci arriva il più alto è questo qua eh proviamo a scendere così sarai stronzo eh fighe se sarai stronzo scendiamo così vedete che non ero cazzo scendiamo anche qua si beh con calma sti cazze si beh figa sono chiamala con calma lanciati 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 cazzo non si lancia eh 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 sempre Oh minchia Sarà i rompimaroni Però aspetta un attimo Se questo va così Vabbè ma se io vado a spostare quel raggio lì Qua non ci arrivo più Se io vengo qua Questo raggio qua l'ho sposto Il raggio non cambia un chezzo Ma vaffa Ma se ne due Ma se è sposto C'è qualcosa che non quadra Si è spostato il cubo Non tocchiamo niente Ma vedi che c'è allora Cazzo sti qua si sono drogati quando hanno fatto sta roba qua Ok Eccone un altro Scusa se ti ho spaventata prima Praticamente Si si può spostare Si spostano Lo so Ma non è normale quella cosa lì Voglio solo spregarmi Sì certo Vieni fuori Solitamente non si fa Però L'abbiamo fatto Senti portiamola a casa La fa un bagno Cazzo Io non ci arrivavo subito Ma neanche io subito ci sono arrivato Bello Bello questo Bello questo indovinello Si dà qualche punto XP No poche Bello questo Cosettino qua Quanto è? Questi li andiamo a battle Ma perché quello standardo è E' in PD da solo? Ecco che arriva C'è un intruso Venite qui Tutti insieme Tornatene a casa Oh Non resistere a lungo Minchia Minchia Siamo praticamente Quasi care Devo fullarmi di frezze E poi siamo a posto Vediamo Vediamo dov'è Cazzo Dov'è una jarra esplosiva? Sì Che cazzo è andato a messo Sto manufatto qua Sì Che cazzo è andato a messo Sì Che cazzo è andato a messo Tornatene a fare L'ultimo ai ventino E poi un po relax funghi un che here andiamo a impilare le pietre in una posizione mistica questo è ancora più storto quando avevamo 19 inverni insieme impilammo delle pietre facendo dei cairn mettiamolo cos'è pensala come una prova di intelligenza e ingegno impila le pietre verso l'alto in qualsiasi forma desideri e come si vince? si vince giocando il premio è una mente serena lascia che l'aria e la bellezza della natura ti placchino questo per arrivare all'altezza desiderata basta e noi dai mettiamocelo tutto poi ci mettiamo l'ultimo è in bilico si che sei in bilico non so se ci stiamo ci sta ci siamo ci mettiamo anche questa ci mettiamo anche questa lo facciamo anzi facciamo la prodigio non penso ci starà beh proviamolo forse sai che ci dubito che ci stia ho capito aspetta un attimo secondo me non ci sta proviamo a lasciarla proviamo a lasciarla niente confermiamo l'ultima non sapevo dove me cavolo metterla rocce alte non so se si potrebbe andare su ma va bene così un punto beh un punto che ce l'ha dato tre punti e ce l'ha dato un punto talento allora dito che inizia a essere andiamo a farci anche questo andiamo a farci anche questo andiamo a farci anche questo no ci stoppiamo qua questo ce lo teniamo per dopo ci mettiamo ci mettiamo i talenti quelli che ci mettiamo in posizione strategica poi dobbiamo arrivare l'adrenalina furtiva stordimento finale e noi siamo 228 arriviamo prendiamo danni corpo a corpo ecco dobbiamo prendere questo una mira d'emergenza e danni corpo a corpo poi però proviamo a fare la sfida quella lì per arrivare a fare la sfida per andare a prendere l'armatura di Thor questa vediamo se non so se ci riusciamo 2,20 secondo me siamo ancora bassi come livello boh proviamo magari tanto frecce quante frecce c'ho ho detto ho dato frecce non tante andiamo 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 al villaggio che ci caricano di frecce non so se dobbiamo battere quel ceffo lì che è livello 3,40 ed è molto molto forte con 2,25 non so se ci stiamo non penso che ci stiamo dentro 3,25 siamo forti per il gioco molto forti dobbiamo essere molto forti allora vediamo un po' cosa posso fare per te in questa bella giornata intanto vediamo inventare si può potenziare qualcosa questa possiamo potenziare Excalibur certo secondo me anche due colpi ci uccide eh sì fino all'altro giorno con mezzo colpo ci uccideva però ci potenziamo Excalibur percazzo vedi perché sai saccheggiare fa bene perché Excalibur ce l'abbiamo al massimo adesso e non è male vediamo se abbiamo qualche runa un pochino più potente 6 danno alle spalle 6 furtività 6 danni critici ci metto metto due rune per fermarci ci facciamo molto ah però quel cazzo qua no runa per armina vediamo ci abbiamo qualche runa cazzo figa c'ho questa eh tiriamo via questa e mettiamo subito questa qui più 14 9 assolutamente figa e andiamo a sostituire anche queste con qualcosa di più interessante il codine ce l'abbiamo sicuro qualche runa un po' no come l'ho detto le eroe quelle speciali qua cosa abbiamo incrementa l'attacco ogni colpo fino a 10 volte sì qui abbiamo resistenza a distanza quando colpisci i nemici allora abbiamo questa resistenza danni d'assassino no danni d'assassino no va bene quante frecce abbiamo 19 poche vediamo se questo hai davvero occhio per la qualità miglior vediamo se ci viene non ci vende un case questo deve andare vediamo 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 se possiamo fare qualche miglioramento no non ce l'abbiamo cazzo 90 no non ce l'abbiamo questa andare a prendere l'ultima cazzo ma ci andiamo non dei tatuaggi che cazzo era porco zì perché io non ci capisco mai niente in ste case qua allora andiamo a lasciare giù questo anche il braccio no il braccio non ce lo teniamo devo andare niente non li possiamo così vabbè scusami se ti volevo portare le due taglie che ho preso ma questo questo i tatuaggi no casa grande no bottega il momento no import sì sì poi ci andiamo ci andiamo a portare la testa dell'animale che abbiamo ucciso prima inizio trova anche qualcosa di carino l'emputore tanto ci prendiamo bravo vendiamo tutto quello che abbiamo gli oggettini frecce frecce no no frecce tutte perché non le posso comprare frecce del predatore non ce l'abbastanza scorta anzi nient'altro aspetta va vediamo se ha qualcosa di più cino no questo li lasciamo lasciamo decorazioni tatuaggi capelli si possono cambiare anche i capelli figa capelli biondi castani ma vaffanbari capelli esotici chiari ma da quando ci sono bici fantastici dovevo trovarli ma vaffanculo capelli riganti rosso fii si possono cambiare capelli figa il mio karma capelli corti biondi ma vaffanbari non ti serve altro? vorrei sapere che credo che sarebbe proprio una buona scelta sono convinto che ti sarà molto utile fii prendi cazzo sicuramente prendiamo un po' di materie prima queste servono prendiamo questo ce ne abbiamo andiamo a vedere un attimo chi me l'era stato detto guardati è assolutamente da avere chi è maiote nai tatuare fii non sapevo che c'erano neanche capelli esotici castane chiare corti violi esotici violi allora guarda niente dai va bene così andiamo a vedere andiamo a vedere hai visto Wallace? no non l'ho visto andiamo a dare cazzo qua cazzo qua lavora solo di giorno ah non c'è cazzo ho perso quello che gli devo dare la roba da quello che gli devo dare la roba esotica cazzo c'è i trofei i testi degli animali speciali mi dà questo è il tatuatore vorrei sapere che cosa avete a disposizione i capelli i classici violi ah ma sono questi no diciamo i classici cazzo così è un po' troppo un po' troppo moderna questo qua non andava mica in tempi viking quali sono gli esotici classici selvaggi biondi ah esotici ma questi non sono mica esotici biondi sono corti allora è tutto vabbè si è tutto a presto andiamoci a fare il banchetto andiamo andiamo a provare quello lì abbiamo tutte le frecce l'azione del massimo proviamo ad andare lì anche facciamo una cosa che non ho mai fatto ci chiediamo anche l'aiuto dell'amicozzo possiamo chiedere anche un amico un come si chiama mercenario pompe le cuffie a zero notte tutti non almeno notte tonno grazie di essere passato non c'è onore più grande di servire sul tuo destriero del mare nup all'impavido prendiamo anche l'aiutante però ci possa risuonare il canto delle nostre lame dobbiamo andare l'equipaggio o mi viene dietro no niente dobbiamo andare l'equipaggio buona notte tonno e buona giornata domani infatti io le mie cuffie guarda guarda le cuffie sono col cavo io tendenzialmente cerco di evitare la roba con la roba con i cavi perché poi mi dimentico sempre ho roba con i cavi che si possono ricaricare perché se no poi è sicuro che te le dimentichi buona notte buona notte buona giornata domani potenziamo c'è il banchetto e notte vichingone grazie andiamo andiamo a provare a vedere se riusciamo a fare sto tutto qua abbiamo tutto frecce non frecce energia energia abbiamo di tutto e di più energia al massimo banchetto cazzo 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 ah l'amico l'ho chiamato solo per cazzo cazzo su qualche missione c'era l'aiutante dobbiamo andare a vedere l'energia al massimo vediamo sicuro per darmi una mano non chiamo il piccione purtroppo cioè perlomeno non è che mi va non è che mi convenga tanto chiamare il piccione cazzo dai vai su cazzo ti sei c'erano 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 dei fiori qua c'erano dei funghi questi salviamo 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 proviamoci tentiamola c'erano 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 la teia demoniaca sa che 4 centi la tua storia muore nella rabbia che ti pervade no, la mia stessa rabbia mi completa, essa mi va a vincere che fai? eh, che cazzo questa minchia eeeh proviamo a fare così proviamo ancora un pedino, secondo me la trentina di livelli ce la fai, lo buttiamo giù proviamo tengo Excalibur però mi tengo sta qua che è molto facciamo un mix come prima arma questa che è veloce ci mettiamo le rune qualche runa per arma un po' non è verità cazzo c'è fortilità più 2, 4, più 3 cazzo non c'è no dove cazzo non c'è c'è anche soltante rune questo, c'è danni critici seconda arma ci mettiamo Excalibur che ci potenzia guardiamo così ma sennò più di così non beh perché secondo me no secondo me guardiamo così dai perché con Excalibur sono molto lento quando lo prendo lo devasto ma sono veramente lento con Excalibur si 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 e tu scontorirai in esse cadrò per male con una dea demoniaca ecco che ti unirai al mio tumulo ad ossa ne ho abbastanza ho buttato via un attacco ho buttato via un attacco la pollia ti ha consumata no no i tuoi trucchi non mi abbatteranno cazzo muori te non io muore eh la madonna sei incazzata sono ridimentata regina di merce madonna dammi la forza la pollia ti ha consumata no no cazzo non l'ho fatta non l'ho fatta non l'ho fatta no i tuoi trucchi non mi abbatteranno no im I tuoi trucchi non mi abbatteranno. 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 Un'altra anima torturata. I tuoi trucchi non mi abbatteranno. 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 Tuoi trucchi non mi abbatteranno per mano di una dea demoniaca. Resta ti unirai al mio culo addosso. I tuoi trucchi non mi abbatteranno. I tuoi trucchi non mi abbatteranno. I tuoi trucchi non mi abbatteranno. i tuoi trucchi non mi abbatteranno per me. i tuoi trucchi non mi abbatteranno per me. non ce la fai con il calibro, non ce la fai e si pianta, non riesci a girarci e torno cazzo un'altra anima torturata dai si vabbè ho capito i tuoi trucchi non mi abbatteranno, come fate ad essere così tante? che cazzo mi sento già più forte non ce la fai, non ce la fai è ancora troppo potente cazzo torno a trentina di livelli cazzo l'ultima tentativa dai ci crediamo mi piace soffrire un'altra anima torturata le senebre triunferanno e tu scontorirai in esce non per mano di una rea demoniaca resta pionerai il mio cumulo ad ossa la follia ti ha consumata com'è che si fa ma vedi che se la se lui ti prende secondo me a banta lo vanno bene anche i dieci livelli almeno una ventina adesso siamo onesti e via prima lo scrumse secondare questo è più di questo io non ce la faccio mica più aggressivo più aggressivo di così io non più aggressivo di così non ce la faccio adesso spettare il mio cumulo ad ossa dannato sei come fate ad essere così tante tu hai trucchi non mi abbatteranno 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 Sì, 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 sì. I tuoi trucchi non mi abbatteranno! Senta pazienza! Va, fa un bagno, va! Non c'ho più differenza, cazzo. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Cazzo Ti tieni conto che è 340 Noi siamo 230 Neanche 230 di potenza Quindi va bene Va bene Va bene Molto bene Domani Domani lo mettiamo Dove noi dobbiamo riuscire? Riusciamo a farlo Noi dove è che eravamo rimasti qua Andiamo a fare Andiamo a fare l'ultimo mistero qua GG Eh manca poco Con una decina Una ventina di livelli domani ce la facciamo Dai 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 sono fiducioso Sono fiducioso No 120 in più è tanto Poi quello lì è anche uno dei boss Cioè uno dei boss Uno di quelli difficili da water Quindi non è che Però dopo quello lì dovremmo essere Indy Cioè domani secondo me ce la facciamo Infatti te l'ho detto 250 di livello Bene o male c'è anche quelli lì Bene o male Cioè E già 250 Comunque facciamo fatica Facciamo fatica Va bene Va bene Va bene Va bene GG Drago Grazie per il supporto E per la sub Bettina Primes Grazie a Raven Forse Foreign 7 Per il ride Il follow Bella drago che è passato Non so chi c'è live Noi ci vediamo domani sera Adesso Un pochino più tardi Verso le 9 Che andiamo avanti con l'avventura Sempre domani Secondo me riusciamo a A battere Quel re di Lerion lì Maledetto Che è molto veloce E Niente GG Ci vediamo domani Ragazzi Buonanotte Buona giornata domani Yuppies Yuppies Mica tanto Però Va bene Così Notte ragazzi Bye bye Ciao